Lascio qui Vado che sia Nooo, ecco vedi, devi aggiungerti di qua Nooo Aspetta che mo parte questa cosa e va a volume a fischio, ok Stop Stop al televoto Allora, tanto prima che arrivi la gente ci vuole un attimino Vedo che sta andando ma non ci sono tipo la chat Aspetta, metto un... No, adesso le rimetto, aspetta Ah, ok Allora Aggiungi Lo metto qua E questo mi va bene Adesso facciamo partire Prima di tutto, allora la chat c'è Ma se non parli ovviamente non salta fuori niente Metto anche i sostenitori del regime Sì Allora, sostenitori del regime Via Questo e questo Tanto c'è già Dragons Eh certo Ho già le patatine quindi sono pronto A posto Anche se il Twitch ancora non ce lo dice Oddio la chat è enorme Eh volendo si può fare più piccola Però poi non la leggi Beh quella degli altri più piccola si legge abbastanza agile Così mi sembra veramente di norma Dici Sì Posso farla più piccola C'è un passaggio dal volo Dunque Ecco Dimmi quando è che così Manno un altro passaggio Potrò fare Eh la riduciamo di duecento Però è sempre un casino Che poi Se è Gnorme No Non la devo fare da qua mi sa Devo ridurre le cose Non da qui Ah no Perché il cubo comunque Arriva tutto fino a lì Allora Interveniamo un po' Su stream elements Tanto dice dragons Che mi spiace Non ho un euro per le due dice Non fa nulla Derp Allora Fatemi vedere Stiamo facendo un po' di Di test Allora questo c'è Questo è messo a 26 punti Lo mettiamo a 22 Lo salviamo Il libro d'oro O il libro dell'oro del regime Che cosa I mesi sostenitori Il libro dell'oro del regime No ma quelli sono i sostenitori del regime Piff Che cacchio Il libro dell'oro Chi ha depositato per il bene della patria E quindi i sostenitori E vabbè Non mi fai neanche fare le battute Che palle Allora vai prova Manda un messaggio Mandato Adesso vediamo Cerco di guardarlo anche io da qua Eccolo qua Che ne dici? Ma già meglio Prima cazzare è enorme Mi sembra a posto Poi l'appeggio lo rimaneggiamo Più in avanti Non abbiamo problemo Allora Tra l'altro ho notato La censura cattiva di ieri Che t'hanno fatto Per salvaguardare il potere della figa Povero dragons Allora pronti via Siamo stati moderatori Non va bene Non abbiamo Per evitare che succeda Quello che ti è successo a te Che arriva Agna Agna E la gente ti modera Perché c'è Agna Agna Esatto Brute robe Il potere della figa Tanto qua sto svuotando questa mana full così Sì ma noi dobbiamo prepararci per il drago E tu sei lì a A smanettare la cosa A smanettare il pistolino Allora mi servono un po' di Bottigliette Poi qua dobbiamo avere delle apple Allora una Che cosa? Perché è zero scusa? Se la guarda mi dice Charge 0 barra 4 Se guardi che cosa? Apro l'inventario Carica 4.0 milioni Eh mi da carica 0 barra 4 milioni Le metto invece 1 milione e 46 Togli la butala a me Non l'hai messa a caricare? Non l'hai messa a caricare Mettila a caricare nella Una cosa Dove la devo caricare? Nella bank di là Qua guarda Qua guarda Come al solito In tutte le serie Carichiamo con le armature Non ci ho manco fatto caso Finale adesso Prendi anche una di queste Servirà per il drago Gira Ancora non mangiarla che dura solo due minuti Troppo tardi Allora mi serve Dell'ossiliana Tipo un tanto così Tipo un tanto così Che ci avvisa che Quello è a posto Allora ci mettiamo le torcine Ci mettiamo questo Perché ho 5 slab Salve 5 slab Ma guarda Esatto si mox Benvenuto Fassisti Ciao Fassista I fascisti I fascisti Fassisti Fassisti La soli undaga La togliamo Il nostro gol di oggi È lo più olio di ricino per tutti È certo Più olio di ricino per tutti Allora metto questa Questo no Allora il boomerang mi va bene Questo mi va bene Questo mi va bene Qua il cibo I blocchetti Allora facciamo che i blocchetti li metto qua Questo te lo metto qui E poi questo è per te dragon Non si ricordi che questo è GameQchannel Il canale che non fa differenze A plebehi e nobili Basta che lavorino per il bene del regime Certo Lavorate tutti per il bene del regime Esatto Allora mi serve anche un pistone Ora che ci penso E un altro gol dell'asso Dunque I suoni del gioco si sentono Si fatemi vedere Si parrebbe di si Ottimo per figli L'olio di ricino È certo È certo Il regime non si fa mancare le comodità Esatto Ma questo è per digerire bene Allora di questi ne facciamo due Momento che devo Perché sto facendo questo Ah perché mi servono le stringhe Basta Come non detto Guardate un attimino Mi vorrei chiedere di essere in modo fino alla morte E noi continueremo a negartelo fino alla morte Tranquillo Non è un problema Allora questo facciamo così Perfetto Ah giusto si Questo si ripianta Il canale che è padroni a casa nostra Esatto Ti è salito l'attacco di Salvini Piff così Si porca merda Allora mi servono delle golden nugget Ce n'è Dicono che l'olio di ricino purifica il cuore E non so E non solo E non solo Sai quando ti fa andare bene di corpo Ti purifica l'intensità Il tuo pallino è pinto Allora mi serve un po' di esperienza Tipo 8 di esperienza Qui Ehm Mette quasi 2,7,8 Qua Ok ci siamo quasi Perché non sto facendo due di golden lasso scusate Non so Ogni tanto dice Vabbè io ne faccio Poi Vabbè Via Allora facciamo così Uno basta Allora uno Mi basta Questo via Questo via Sì fino a che non è cacciato fuori fegato Reni e polmoni Non la smetti E' una meraviglia Allora abbiamo detto Mi serve un pistone Piston Crafta Ok Poi mi serviranno delle leve Ce le abbiamo Ok Piff L'armatura è carica? Si è carica Hai visto i cartelli qua? Carica sicuro Si Centro controllo e migrazio Eh E' qua dietro Eh Quello che viene sparato due volte Ieri è stato bellissimo È stato bellissimo Quante risate Non se l'aspettava Allora adesso dobbiamo fare una end cake Perché è il modo Il classico modo di trasporto Dico Ottimo per la modificazione Si è bello che è pronto per essere fassiato E certo Ma nel nostro caso è fassistiato Allora noi abbiamo anche delle golden apple Quasi quasi ne prendiamo un paio Guarda Laro dice che è morto Il troll di balrock Eh vabbè Non morire Allora abbiamo fatto che c'era gente Che veniva a guardare le robe nostre Non va bene oggi Non guardate le cose nostre Perché il regime si inibisce Esatto Allora ti do anche due golden apple Di quelle Ok C'erano un paio di cose L'avevamo detto che c'erano le guardie alla frontiera La gente non ci crede Ecco Ecco la guardia alla frontiera Pronti Allora di queste non ne abbiamo Usiamo queste che sono più figa Anche se lì lì è sempre un ospite ben accetta Esatto Per lì la frontiera è sempre aperta Allora tieni prendi anche una mela di queste Poi mi prendo uno stack Dobbiamo anche portare No vender per la lì Per fare lo stesso trattamento per tutti Perché il regime ha lo stesso trattamento per tutti Sì Ma tanto so già che lì lì non accetta Perché se no sembra di citare Eh vabbè Però siccome l'abbiamo dato a uno Per ristabilire l'uguaglianza Bisogna darlo anche all'altro Sì ho notato Ma sei stato mutato anche da prima Quando li hai chiamati plebe No beccati questo bro Viva i vegani Ah mi serve una torta Aspetta che devo prendere una torta da qua Aspetta che mi faccio un po' di spazio Allora torta Ne abbiamo un bel po' Tra l'altro la cosa bella era che c'era la tizia che ti diceva robe E ti trattava male E niente Tu gli rispondevi con cose abbastanza tranquille Comunque non rilieto chissà cosa E venivi puntualmente mutato E il potere della fega Sì per tutte robe Porca merda Queste game che luciano Il canale è senza moderazione Perché i mod alle volte derpano duro Allora metto l'end cake Che cazzo ne so di qua Qui Ecco Poi la rifulliamo con questi Ti sei portato La gejo Cazzo sono già andato pif Come cazzo hai fatto? Eh pensavo ci fosse ancora uno slot nella torta Gli ho messo un altro occhio E invece un cazzo Sei una merda Cos'hai che volevi? Vai manda No non mi serve Perché mi hai dato 4 di terra still? Perché mi hai dato C'erano per il seme Eh vabbè ma mica lo sto facendo adesso Il seme Allora L'altro ce l'hai Allora Può darsi che dove spawniamo noi Aspetta che metto una torcia In ogni caso Mi mutano E che cavolo Vedi è perché Oh cazzo Vedo il drago Sì perché da qualche parte Il drago fa la fiatella Aspetta Vieni di qua che devo fare una piattaforma Tu tieni impegnato il drago Raccontagli una barzelletta Ciao drago Che cazzo Tanto siamo abbastanza Tosti e corazzati Il drago ci sta ignorando Per una fortunata Sì sì Ma infatti Io adesso tiro fuori la bond Non mi ha tirato un puffo Ti ha fatto la fiatella addosso Mi sa No 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 La fiatella si deve appoggiare Per farla Sta tirando roba il drago Eh lascio tirare Prima che poi già gli passa È un ragazzo Piff Sono ragazzi Ma se ti faccio i pazzioli È normale Ha tirato una roba Non mi ricordo se Forse è quella che fa la fiatella E mi serve La piattaforma Per intercettarla Ho premuto F7 Ma è la cosa che ti ha fatto cadere Questa cosa viola qua Eh aspetta che Adesso lo ingrandisco Così la intercettiamo Capito Ma discorso Vedi per quello Non abbiamo moderatori Ci pensiamo noi Così Di qua ce n'è di meno Aspetta che devo ingrandire Cazzo sto finendo i blocchi Eh io non ho preso niente Vabbè Non ti preoccupi Stanno spawnando un gigafot di ardo Negli endermen Meglio Allora Adesso metto qualche torcina Ah io sto pigliando danno E' quella cosa viola Non la vedo Ah è vero Perché ho le particelle disattivate Quindi non la vedo Aspetta Ti l'hai visto che c'era roba in terra E' questo bastone Oddio aspetta Guarda cazzo il volume è altissimo Sì è un po' stonevole Lo abbasso Vedo il drago che sta fermo E vola sul posto Allora aspetta Vorrei essere crashato Ok eccolo qua No no è fermo lì Sì sì lo so La sto calorezionando E c'era il dapocoppa E tu mezz'ora No devo prendere la fiatella E' lì Ok l'ho presa Questa è ender air Ecco guarda che Fu davanti un po' di fiata Ho fatto la fiata Tarvino Questo sarà ender air No Sì sto collezionando ender air Non mi sembra ender air Fuck Allora io metto un po' di torce Cosa mi sta uccidendo? Non ti sta Cazzo Ci sta rompendo il book Piff Non vorrei dirlo mai Vai terminiamo L'esistenza del drago Ma più che altro Stavo rompendo il book L'audio L'ho abbassato un altro po' No Abbiamo fatto male A non portarci qualche capacitor Ok Pronti a rompere I cristalli del drago Piff Cazzo Sono esploso male Oddio A momenti non ci crepavo Allora L'altro è che piccone Puff No Stai usando quello per curarti No Aspetta che adesso lo distruggo Guarda To Poi distruggo questo To Io ne ho fatto fuori uno Ora è stato per un altro Io ne ho fatto fuori uno Ma non so dove è finito Tanto c'è Ciao Krusty E' appena in tempo Per vedere la battaglia Contro il drago E certo Ciao Krusty No ma Ti stai curando con questo Io non credo bro Curati con il suo cazzo Ok lì ce n'è ancora uno Non per molto FRIP Il mio boomerang E' stato più veloce del west Ok Adesso dovrebbe essere debole Pronti Questo cazzo è Sta arrivando To Fuoco Smicciato L'ho dato L'ho dato Cazzo il danno che gli ho chiamato Te l'ho detto Il boomerang E' fatto così Fa un danno Ecco adesso che fermo Qua Gli facciamo il culo Come un canestro Si Termine tecnico Gli facciamo un culo A sandara Cazzo il mio boomerang Dove è finito il mio boomerang Il mio non è ancora tornato Si eccolo Venga signor Lì con la cosa bella Tunk al volo Sperai sta tornando To Smicciato Eccolo eccolo Se il mio boomerang Tornasse entro l'anno Sai che c'è Ti do quattro spadate nel coppino Io lo picchio a boomerang Con cattività Anche io Lo sta liberando Ma Aspettiamo che si blocchi Si si Ma toglie le torce Questo bastardo Che palle Vabbè Oddio sta piovendo un enderman dal cielo Come mai Perché cade come folgore dal cielo Qua l'enderman Non lo sai Pong Aia To Ah la mia armatura Non si scarica mai Piff Perché Ho il potere Della rete Degli RF E quindi In qualunque mondo io sia Posso avere energia Mi è arrivata la fiatella E vai La raccolgo La raccolgo Finita Abbiamo 24 di fiatella Grillo Venga qui L'ho smicciato Caccolo Mi è passato Ci arrivano a qualcosa Intanto mi prendo una dark cloud Della natura Intanto lascio Piff Che No Che non servono a una pera qua Il boomerang è un casino Piff Bisogna Aspettiamo scusa Scendiamo vicino al Tornato il mio boomerang Aspettiamo vicino alla fontana Uh Altra Altra fiata Altra fiata Piglia piglia Ho raccolto Ho raccolto Comunque per rispondere al fatto Che dice che noi Facciamo le robe off camera A parte che non siamo i soli Punto numero uno Punto numero due Ma al momento Ce ne freghiamo il giusto Piff Sì Ma è Perché oggi sto parlando Della moderazione Cose varie Ed eventuali Il discorso è che Ci dicono anche Di farci una vita Abbiamo bisogno di scoppare Ma il punto è che noi Anche scoppando Riusciamo a fare le cose fatte bene Oddio C'è la fiata di qua Aspettiamo da recuperare Un altro po' di fiata E' pieno Ce ne ancora un po' qua in testa No e lì non la prende più Anche perché c'è un problema Adesso questo lo metto di qua Così mi accorgo Quando sto ciucciando L'aria del nether Perché c'è un problema Ogni tanto ciuccio L'aria del nether Invece di ciucciare la fiata Cosa cazzo è Ok Mi sono rotto il cazzo Ok fin seguiamolo Ok E tiriamogli 4 calci in culo Ecco Aspetta tiro fuori il ferro Aspetta mi mangio La mela Così il danno che gli faccio Il danno che gli chiamo E' vero ma mangio anche Non si prende più Ma To Oh si è bloccato Rompiamogli il culo Vai Aspetta che Scusi signora Prenda To Prego Facci buone feste Tu guarda il cuorecino Aspetta che prendo un po' di fiatella Non sta prendendo un cazzo di fiatella Io prendo un po' di livelli va Sto appigliadando dalla fiatella Ma non riesco a raccoglierla Questo cuore Basta toccarlo Aspetta Mi attivo il magneti Prima che vada Nel blu infinito Ah ok E' tornato a me direttamente Ok perfetto Allora dunque Tutta questa merda Quando è che se ne va E' l'uovo di idrata Oh cazzo ti guardi Adesso lo piglio Dunque ho Qua ho tre blocchetti di ossidiana Che vengono giusto dallo scopo Cazzo Ho fatto 58 livelli Non vorrei dire mai Io ne ho fatti 53 Mamma mia Allora Questo Lo mettiamo così Qua ci mettiamo una bella levetta E ci aspiriamo l'uovo di drago Così con questo ci facciamo un bel pannello solare Facciamo una bella frittata va Oppure potrei farci un grow crystal di quelli accelerati E vedi come viaggia Uy Crescite l'avevo detto poco fa Perché non quegli occhi Quali occhi? Eh Gli occhi del drago E vai googly eye Ah si l'ho notato E vai googly eye Era abbastanza interessante Allora Pronti Possiamo tornare nel nostro mondo Così Tuffando nella fontana Nella fontana è piena di fiatella Eh vabbè Con l'armatura che hai Si potrà schippare questo cesso Sì ecco qua Come prendo esc Ma non so se sta partendo la chat io Non la vedo Non lo so da Speriamo non abbia mangiato aglio per C'è un problema bro Quale? Aspetta Mi sa che il sistema di difesa è attivo No non c'è problema Allora ho fatto un test chat Perfetto No sta andando Oddio Crusty ci ha allungato un euro E quindi ci ha costretto a prendere più olio di ricino Mi sembra giusto Noi metteremo la foto su dove a che parte E quindi adesso compare anche fra i sostenitori del regime Esatto Allora aspetta che vado a Slash Tpi Island Yey 27 No non stavo scrivendo nulla Eravamo attenti al combattimento Ah no non ci sono i Non ci sono i proiettili pif Quindi Ah Perché è chiuso? Come ho chiuso? Eh ieri quando abbiamo slogato è stato attivato Ah cazzo ho tolto il cartello per sbaglio Per poter aprire Ci lo devi rimettere Adesso lo metto Vedo quale che manca Allora intanto lo metto qua Poi te lo pigli A me è arrivato il messaggio probabilmente da Paypal Infatti Allora intanto ci svuotiamo dall'esperienza Ecco qua Perfetto Eccoci qua Poi con la fiatta di drago cosa dovevo farci? Degli altri solar panel mi ricordo Dragon brick Furness generator Manco po' cazzo Nanobot beacon No Ci fai anche delle pozze Splash water bottle Cazzo me ne faccio di usare Ha ha No Allora Questo me ne frego Ecco ci serviamo per fare l'ender star Per fare delle altre robe Poi per fare questo solar pannellino Ok Per fare l'uovo di draghino Ah devi prenderti questo aggeggio Quale aggeggio? To Ah Ok Ma ho anche la su premium essence Ok butta Anche questo No Non è arrivato un cazzo pifo Disattivi il magnete o non la puoi molla Cazzo me l'ho già dimenticato Ne avevo il magnete Ups Ah però l'altro te l'hai presa Eh boh forse l'ho più vicino Sì Allora questo Allora con il drago Sono indeciso Se farci Immediatamente un solar panel Facciamoci un grow crystal di tier 3 Sì facciamo un grow crystal di tier 3 vai Pronti Papara Allora Qua sotto c'è l'acqua Qua sotto c'è l'acqua La potrei togliere Adesso però succede un casino Quando apro qui L'acqua va tutta in giro Allora Datemi un blocchetto Questa mana pool La possiamo mettere In teoria possiamo fare più di un drago adesso Perché Perché non ti riempi di gioia carità cristiana Allora Fatemi pensare Ci basta della cobblestone Poi devo vedere con la fiatella del land Che cosa si può Cos'altro si può fare Allora Ok Morge Ha finito il Come si dice Il cooldown dei Termalili Perché adesso vi dico una cosa Che magari voi non sapete Questo setup Che non ha bisogno di controllo In teoria Per la generazione del mana Ha un piccolo problema Se la mana pool Dove sta versando È piena I termalili smettono di produrre roba E si intasa di lava E quindi Poi Quando tu vai a svuotare la pool E farlo ripartire Il timer è tuo invaccato Quindi Il modo per farlo è Togliere la sabbia Dalla Come si dice Dalla clessidra Aspettare che i termalili Versino su una pool vuota O comunque Una volta che è svuotato Versino tutto il mana Finisca il loro cooldown E poi lo puoi fare ripartire Perché l'acqua non smette di uscire? E cazzo è successo? Boh vabbè Ok il grow crystal è a posto Vediamo un po' come funziona Non c'è serve Non è che stia funzionando Così esplosivamente Però Sembrerebbe comunque a posto Ah e poi qua c'è il torrione Signore abbiamo quasi finito il torrione Sapevatelo C'è mancato il ferro sul più bello E io qua posso fare Il portal di altri Cosa fa? Questo è tutto per roba della botania Quindi questo potrebbe servire a pif La roba della botania mi serve Starcaller Tundercaller Ok il red string della botania Boh vabbè Le butto qua dentro Qua se ti servono tutte le cerchi Allora fiata del drago Quasi finita Quasi finita la buccia esterna Allora potrei fare o un altro dragon egg Oppure cominciamo a fare I solar panel avanzati Non abbiamo più pattern Minecraft i venti Gentilmente Hop La Allora Solar panel Pronti Dovevo anche fare la cosa per andare nel binito Pif Me ne sono già dimenticato Allora Solar panel 4 5 6 Certo dobbiamo andare dentro benito Allora ecco qua Solar panel 6 Adesso lo sa fare Ok si gli mancava Quindi solar panel 6 Vai Adesso devo staccare questi di solar panel E fargliene mettere 2 Ok perfetto Adesso ci prendiamo Ah no aspetta Forse c'è un problema Photovoltaic shell 4 No Le sa fare Allora me ne fai Gentilmente 3 Non abbiamo le Le blaze rod Pif Intanto Eh Corri nel nether C'erano blaze rod Ma non avevamo lo spawner scusa Eh si ma adesso non ho tempo di settarlo Vabbè allora adesso vado Dammi 2 secondi Me ne bastano giusto 3 Sì sì Manca l'interno Eh non ti preoccupas Non ti preoccupas Allora Aspetta che sto Pucciando un po' di questi Manca il mana per poterlo attivare ora Quindi aspetterò un po' Ok ma perché sei ancora qua Vai nel nether No vado a farvi vedere questo Ma che bello Vabbè vai Ah c'è uno zombie pigman Che è venuto a trovarci Dal nether Vabbè poi Aspetta un attimo Che torno subito Vabbè io lo ammazzo Intanto vi volate questo Voila E voilà Possiamo andare Intanto La gloriosa avventura Di Peach Mage Nel nether Parapapapapa La fortezza era di qui Attiviamo qua J-J Va Ah ok Aperto così A posto Adesso c'è un po' più di fresco Cioè Con calma Un po' più di fresco Con calma Hai scattato le scrutiniella nel bagno? Sì certo Il bagno della scrutiniella Ah giusto il terra Stil Vediamo quanto su Allora abbiamo 36 di su premium Quindi possiamo tranquillamente fare Il seme del terra Stil Allora Tier 5 Start via Lo mettiamo qua Poi Del Sup Opla Quanto a te ne servivano di Queste storie? Tre Che sta arrivando Questo lo possiamo mettere tranquillamente qui Adesso tra un po' Ci produrranno Aspetta Diamo una mano agli eventi Ma devo anche controllare Ho fatto un esperimento E ho messo un attrezzo Adesso lo devo controllare Lei usa l'attrezzo Si conferma questo Si stanno andando avanti con la botania Ho fatto il portale Del di Alheim Quindi può continuare a fare roba strana Allora lo devo mettere qua dentro Ho fatto il terratilo Ho dato il terratilo al signorii Così può fare il seme E non dobbiamo farlo con La terrestria Allo transfer Che è una rotina di palle da fare Allora questo è a posto Allora qua avevo messo Uno di questi attreccoli Ma non sta crescendo L'acqua c'è L'energia c'è Non sta crescendo Ok questa cosa è una cagata Possiamo anche toglierla Una specie di silos per le piante Ma una cagata micidiale Signoriii Per ottenere questa dica Metti nella Nella cosa Ok Metto nella cosa Lì dentro Fatto E questo e questo Ci metto dentro No ho sbagliato Ho una bug verde Mettiamo nella Allora Qui Mi servivano C'è le 4 Non servono 3 Via Perfetto Ho detto perfetto Molla stare Poi mi serve Della fiatella del nether Cioè Della fiatella del dragon Della fiatella del nether Questo 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 e questo E voilà Bello come un quadro Ah gli zombie Ok con due di questi Generiamo 16000 rf su tic Non è male Ecco qua Vediamo se questi Ma non credo Perché c'è un problema Con gli upgrade E non prendono upgrade Tanto il bot Che ricorda I potenti mezzi del regime Si mi sembra giusto A proposito I potenti mezzi del regime Ragazzi Se giocate a Eternal Crusade Io ho iniziato a giocarci Quindi se volete Farvi qualche facilità Come me Sentitevi liberi A darmi sul senso Il nome è P Allora Questo O lo uso Per incantare 4 Blocchetti E fare la Wack Nel draconium E fare un po' Di Di cose zozze Oppure Posso farci Un dragon egg E fare Dei pannelli solari Ancora più avanzati Questi qua Che tirano giù 32000 A botta Controlla Sulla pagina Di facebook Farò una foto Quando lo prendo E lo metterò lì Contento? L'olio di ricino Si Ma certo Sempre disponibile Con l'olio di ricino In un momento che Lo prendiamo Lo prendiamo Certo che prendiamo Non so neanche quanto costo Io ho messo una roba a caso Quella è una cosa Così una facezia Un allegro sghignazzo Vabbè Vediamo Allora Per questo Se è fattibile Lo faremo Allora Cioè che tirano giù Le cose Non è che siano Così Giganteschi Però Si può fare Capito Quindi Questo Però Il primo uovo di drago Io lo userei Cioè non il primo uovo Posso mettere il chip e manuro Dentro la La refind Si si Io direi che il primo dragon earth Lo usiamo per farci 4 blocchetti Di Di awaken el dracone Ommera 4 blocchetti Possiamo fare fuori un altro dragon Volendo Infatti Poi ci prepariamo per farlo Altrimenti possiamo fare La dragon egg mill Anche la dragon egg Ah no però ci servono Due Due di questi L'undersar generator E una make up a tre Ok Quindi per il momento Quello non lo facciamo Uno due Tre Vorranno Credo altri 12 minuti Per fare cosa Avrei abbastanza Ma potrei aprire Il portale Senza che esploda Appena lo apro Vabbè E mi son dimenticato Quanti anni stavo facendo Questi Allora Sei me ne servono Ok Come fai sei Via Pronti Hop Allora Andiamo a fare Questo rituale Dell'infusione Va Il prossimo step Qua sarà Cambiare queste manapool Con delle Manapool Quelle speciali Non è possibile Che siano sei Ah si sono sei E' partita anche La cosa del Del canale Che ti Che ti allunga Il pisello Brutta roba Allora Questo qua Questo qua Questo lo possiamo Mettere subito Queste le esplitiamo Un po' così Tanto a lui Non è che gli frega Della posizione Di questi Pronti via E continuano A non vedersi Gli effetti Di questa roba Non so perché Ah ma Hai aggiornato Gli achievement Intanto No adesso vado Dunque Qua Torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo indietro Dunque Su premium apple Dobbiamo craftare Almeno una Angel block No Travel to the end Si Kill the end Dragon Si Collect dragon's breath Si Dobbiamo andare All'end city Non mi ricordo mica Come si faceva Bisogna andare Da qualche parte In giro Ah c'è dragon egg Entra in ito Ho fatto una cazzata Adesso dobbiamo tornare Nell'end Con l'end cake Allora Reattori Torniamoci 10.000 rf Fatto Adesso devo fare Un pedestal Della draconic Ah forse Non lo fa più Aspetta Eccolo qua Si E' lo stesso Una cazzata Cosa te manca Una stone pressure plate Si Eccola qua Pronti Allora questo Poi mi serve Un Dislocator Ovviamente ci manca 4 di questi Poi ci manca Un occhio di ender Che ci andiamo a recuperare Subito Hop Bisognerà accendere La mob farm Ora che ci penso Questo show Questo qui Via Se non mettiamo A polverizzare Sta roba Andiamo avanti Oh invisibility clock Vediamo cosa mi serve Per fare Prismarine Crystals Eh ma c'è un problema Ti toglie la La cosa Se non ricordo male Cosa No forse entra qui Mi sembra che ti tolga L'overall La La chest plate Bingo Allora Allora Quattro di questi Ce li abbiamo Ah quindi Prismarine Si fanno Con No lanci Guarda che ce ne devono essere I prismarine qua dentro Vabbè Nether quartz Nell'avana pool Con sotto Un alchemy catarist Certo Ah beh se no Anche con l'atomical Reconstructor Vabbè E come li ho fatti io Tutto questo tempo Allora questo lo mettiamo di qua Questo lo mettiamo di qua Quindi dobbiamo tornare in quel postaccio Si però adesso faccio il coso per la resurrezione del drago Ci servono quattro end crystal Magari se lo facciamo qua dentro è meglio Allora Non abbiamo la spanna e la sufficienza Pronti Se voglio devi lassare io No vai tranquillo Ce ne sono diecimila nell'impianto Beh Perché ha lavorato tutta la notte Quindi abbiamo le cose pronte Allora quattro end crystal Pronti Poi Questa non ci serve una pera Ciao Dimmi Come? Dimmi Aspetta Che c'è? Qui? Sono dietro la zanzariera Dimmi Oh Ciao ero sadro Benvenuto su GameQ Channel Che ti saluta Dimmi Che ti dà il bentornato se ti è già stato da noi Tanto c'è classic che dice che non scrive molto Che fa robe Che ci riempi di gioia Carità cristiana Che ti porta in questi lì di Ero Sandro Dica Oh Hero E allora sali Tanto il signorì è che sta facendo comunicazione di servizio Piff Tieni raggiunto il coso un attimo Sto già reggendo tranquillo C'è il canale che fa roba Qua si può vedere Sta riempiendo La progetto sono due E vabbè Noi quella l'abbiamo già crepata Come serie Ma è stata abbastanza Non dita nel culo comunque Non da moltissimo Abbiamo iniziato mi pare alle 4 e mezza oggi Che avevamo problemi contingenti Di sotto andiamo in live dalle 4 fino alle 6 e mezza Quindi ancora c'è abbondantemente più di un'ora Anche due Quasi Eh ma non fa niente Perché guarda Ha l'armatura così figa Che se anche si do Di nulla Vedi Poi lui si ricarica l'armatura A buffo Con il fatto che ha l'aggeggio Tanto tranquillo Se mi dice chi l'ha colpito Perché se ne accorge Le do la colpa a te dragon Intanto Mi viene comunicato in anteprima che Hero Sandro ci ha D'arrivato Grande notizia E' tre grandissime notizie Presa nota dal video Cielo amico mio E racconta tutto Come giusto e doveroso che sia E abbiamo fatto Con Stream Elements C'è il modo per poterlo fare Fico vè Fino all'altro giorno non c'era Ma oggi con i potenti mezzi del regime L'abbiamo Perché potevamo Potevamo anche prima Ma prima non ce ne sbatteva niente Oggi ho detto Ma visto che stiamo Fixando robe Tanto vale aggiungere qualcosa di nuovo Secondo me comunque è ancora un po' troppo grande Voi cosa ne dite ragazzi? Si chiama Stream Elements Iscrito Stream Elements Esatto Il regime può E siccome può Lo fa Tanto vedo che ha spostato l'armatura rossa lì sotto Ma che l'opo sia troppo grande Occupasse troppo spazio Perché se no Non si vede nulla Troppo grande Troppo grande Ma di nulla figurati Quando sei in dubbio chiedi E se lo sappiamo Te lo impara GameCube Se invece non lo sappiamo Non abbiamo voglia di risponderti Aspetti Sfiga Qua funziona così Perché questo è GameCubeChannel Il canale che se ne sbatte la ciolla Ricordate lo game Lily è in live Uh fico Trano di solito A quest'ora non fa live Va in live la sera Dopo andrò a rompergli le scatole Allora va Cosa sta portando Dragon Ho spisto che A quanto pare tu sai cose Che noi al momento In cui noi non ti stiamo occupando Ah grazie Il regime è a prova Puoi poggiare il pugno Sullo schermo E riceveremo Piste virtuale Da piste Oh yeah Grazie mille per l'hosting Oh che figata Ah no è vero Che il venerdì capita Che importi Life is strange E altre cose Quindi niente di irregolare Tanto aspettiamo Se non direi Che è morto in Libia Ah con la play Che cosa giochi di bello Narraci Narraci Io ho finito La mia carriera Da consolare Con la playstation 1 E l'xbox il primo Quindi Sono un po' fuori Dal loop Come vedere qua Che appunto È la mana pool Ancora un pochino Scusate Che è moda Non si vede un cappero Perché il signor Si è fermato Nella posizione del cacchio Adesso mi si metto davanti Vediamo se riesco a spingerlo via A breve dovrebbe apparire anche in live Vediamo se riesco a far chiudere la finestra della Refine Spingendolo via Ah noi non Cosa Come si dice Non è che facciamo Grosse distinze Fondamentalmente Io come gamer Nasco Perché la prima cosa che ho avuto È stato il Siga Mega Drive A parte i vari Quelle console brutte Che avevano tipo 500 giochi Che erano Il 499 Super Mario E poi tipo Contra Quelle storie così Quelle cinesiate bruttissime Però Sempre meglio di nulla Poi da lì Siga Mega Drive E-Station Xbox E poi sono perfetti Al PC Perché fondamentalmente PC Master Race Però non si dice Non alle console È che se devo spendere i soldi Preferisco spenderli Per aggiornare i miei computer Perché giustamente I computer volendo Un po' a cazzo però Può emulare una console La console Il PC non lo può emulare Che cattiveria No comunque Se vi divertite con la console Non si sapevi di usarla Chi dice nulla Ognuno ha i suoi gusti Ognuno si diverte come può Come dicevo Ognuno ha i suoi gusti Delle sue competenze Ad esempio Giochi sportivi Ne gioco poco e nulla Perché non sono proprio Il mio forte Io vado bene Con gli strategici Mi diverto con gli sparatutto Sempre in prima Che in terza persona Ho una mira un po' di merda Però mi diverto Se ne frega Eh Le Lambo sono belle macchine Goditele tutte Visto soprattutto Che hai pagato Uno spracco di soldi Per averle Quindi Quindi Comunque Noto con dispiacere Che non si vede in live Il fatto che ho spinto via Il signor EA Magari quando torna Che per me si troverà In culonia Tanto continuo a spingerlo via Sì Secondo me Ci è sceso Nel cesso Ma poi tornerà E sono un po' di soldi 21 euro Vabbè Ognuno ha le sue disponibilità La Chiù channel vi vuole bene In fondo E l'importante è quello Che sia lussuoso il ponte Poi il resto Ti se ne frega Sinceramente Non so che fare Visto che comunque Non posso mostrarvi nulla Senza il signor EA Civicchia Nulla da fare Che voto hai preso? Dai Diccelo Così almeno Ci facciamo un'idea Di quanto Poteva essere difficile Ma non è un po' inquinato Il tamigi Non è una bella cosa Finisce con questi giorni Ti svegli che Le squame E il terzo occhio Sul gomito Sono brutte robe E questo di brutte robe Dove è finito il mio maiale? Tra l'altro adesso Ve lo dico in anteprima Perché È un'idea Che mi stava svolazzando Già da un po' Sto pensando Di modificare La via imperiale Che porta da Lili Per fare un circuito Sospeso Per la super porcetto race Che è la gara sui maiali E magari Puoi invitare Gli altri due Il balrog e Lili A parteciparvi E facciamo Il coso Il porco GP Che ne dite signori? Ci state? Sì Inizia a preoccuparmi Casomai Gli mando a cosa Come si dice L'ambulanza a casa Chiamo chi l'ha visto La guardia nazionale Cacciatore di Sardegna Sì sì Sono ancora occupato Dai Datti da fare Non ti pago per niente Tu non mi paghi E basta E questo è il discorso Berp Che cazzo sta a fare Mamma mia È morto È certo È il porco GP Tra l'altro La super porcetto Racer X È stato uno Di nostri primi video Su Youtube Anche E ancora si trova lì Se volete vedere Orate nel canale Era una cosa Un tracciato piccolissimo Fatto da me Pieno di bug Cagate varie C'era una trappola Che la metà delle volte Non funzionava E poi funzionava male Ti faceva cascare lo stesso E c'era anche una trappola involontaria Perché c'era come scena Una nuvola di wool In cielo Che faceva piovere Una cascatella d'acqua E ho scoperto Che se il maiale Toccava poco poco l'acqua Tu ascendevi al cielo E venivi Poccata puntato fuori È stato bellissimo E fa il bosniaco silenzioso Che te credi Carogna Ma probabilmente Ogni tanto arriva Butta un occhio sulla chat A vedere cosa sta dicendo la gente E poi Dice una cagata E fugge di nuovo Che brutta persona Veramente Ah intanto Una comunicazione di servizio Abbiamo tolto Il song request Perché Stiamo pensando Di importare Il video delle live Poi su Su youtube Abbiamo già provato a fare Lo con i vecchi Però il song request Ha fatto sì che La metà dei video Fossero bloccati Per copyright Di tutte le canzoni Che ci mettevate Non le copierate Quindi speckavamo lo strike Quindi niente Volevo dirvelo Così almeno lo sapete E vi mettete l'anima in pace Bene Dunque dai raccontatevi qualcosa Io devo qui Più che narrarvi robe Al momento Non vedete cosa sto a fa Sì lo so Ammirate Tutto quello che c'è Poi quando torna Signori A La chiudiamo E vi interroghiamo Dovete sapere Cosa c'è E in che quantità Ok Devo mandare un messaggio A signori A Magari così Dico di Farvi vedere Qualcos'altro Che qua Non si batte Che piove Ok Vediamo un po' Se non mi interessa Muori Brutto culo Non è che chiudi L'immagine della refind Che non si vede un cacchio Almeno se non ce l'hai Ti posso spingere in giro Così non vedono altro Che una sequela Di storiacce Con cifre Fai qualcosa Ok Ma magari gli arriva E E fa Sì Gamecube Channel Gamecube Channel Vi presenta I monologhi dei Piffmage Oh niente Praticamente Quando è nato Gamecube Channel Non era il regime Prima di tutto Questa qui è una cosa Che vi sconcerterà Lo so ma è così Tutto nasce Un paio d'anni fa Prosto modo Stavamo guardando Degli streamer E ci siamo detti Visto che non stavamo Facendo una pera Fondamentalmente Entrambi Ma perché non facciamo Dei video anche noi Visto che A tempo ne abbiamo E giocare ai giochi Ci giochiamo lo stesso Tanto vale registrarli E dire due cagate Ci siamo incontrati E abbiamo detto Va bene Facciamo questa cosa Dobbiamo Facciamola però In cooperativa Facciamo come quei due Sul server no Quindi due persone Che streamano Sullo stesso canale Ci siamo messi d'accordo E Ci si trattava Di trovare un nome Quindi abbiamo fatto Una lista Dei vari nomi 166 merde di pollo Fantastico Abbiamo scelto Vari nomi Il problema è che La maggior parte Dei nomi che avevamo scelto Erano già presi Da streamer O di oltreoceano Nostrani Quindi rimanevano Nomi brutti Alla fine perché Doveva essere qualcosa Tipo Game Squared Però c'era già Allora siccome Al quadrato c'è già Facciamolo al cubo Così siamo ancora meglio Visto che loro Sono quadrato Noi siamo al cubo Controlliamo Gamecube Non esisteva da nessuna parte Ed è nato così Ci serviva un logo Però Come fare questo logo Bella domanda Non sapevo cosa fare Stavamo attreccolando In quella Ho guardato la Pila di caos creativo Che c'è sulla mia scrivania E ho notato una vecchissima Scatola di floppy disk Vedere la scatola di floppy disk È il nome nostro Che era comunque Al cubo Mi ha dato l'idea Ho preso Questi cacchio di floppy disk Ho preso Lo scotch Una pallina Di quelle antistress Ho incollato tutto insieme Ho creato il cubo Con la scritta Gamecube Sopra Gli ho fatto una foto Con il mio cellulare vecchio Che faceva le foto In maniera orribile E quello L'ha fondamentalmente Diventato Il Lo stemma Del Del canale E da lì nasce Gamecube Come si è arrivati al regime Per arrivare al regime È nato Con Battlefield Quando abbiamo preso Battlefield 1 Perché Battlefield 1 Ci stavamo giocando E già lì abbiamo fatto Il coso dell'italico valore Ci abbiamo importato da lì No no L'istituto cubo È tranquillo Il pubo lo usiamo Per fare quello Che dice Giangelo Che dobbiamo andare A farci una sana scoppata Che noi ce la facciamo Ma riusciamo anche A fare le cose fatte bene Nonostante la scoppata Perché una cosa Non esclude l'altra Terp E niente Poi il fatto del regime In quanto tale Successe che durante una live Credo che Dragons Fosse presente Entrò un social justice warrior Da noi In partita Mentre stavamo giocando Sulla progetto zone 2 E non mi ricordo bene Come andò il discorso Ma ci stava rompendo Un po' le palle A una certa A noi Gli abbiamo risposto Un po' male E questo qui ha detto Ma allora se fate così Siete dei razzisti Anzi più siete dei fascisti E siccome ci hanno dato Dei fascisti Da lì è nato il nome Dei fascisti Con la S Su Gamecube E del regime Perché se siamo fascisti Ci vuole il regime Quindi poi L'italico valore di battle Si è diventato L'istituto cube Che è l'istituto Per il combatto Nei valorosi Guerrieri del regime Sì esatto È nato tutto così Non c'è un grande cosa Non avevamo nessuno dietro Che ci ha mai dato una spinta Abbiamo fatto tutto da solito Tra l'altro abbiamo optato Per una crescita lenta Per capirci Non abbiamo fatto Come fanno molti Che per esempio Creano il loro canale Su youtube Perché noi siamo nati Su youtube fondamentalmente E vanno a spammarsi Nel canale degli altri Tipo Ti sto followando Contraccambi Oppure ti seguo Contraccambi Oppure vai nel canale degli altri Salve siamo il canale X Se vuoi venire a vedere Gameplay Chiacchierare Cazzi e mazzi Ci trovi all'indirizzo Non ci siamo mai spammati In questa maniera Semplicemente Caricavamo i video Se qualcuno ci voleva vedere Il nostro modi spam Ok ci sono Ok Signori scusate A posto Dunque cosa stavo facendo Ah è giusto il drago Aspettate che mi levo i calzoni Eh perché per farsi il drago Deve levarsi i calzoni E tra cazzo Dar Tutto a posto Che po' Ah intanto TheDemon2 Ha dimostrato Buon gusto Benvenuto su GameQ Channel Il regime è fascista Bravo Fascista Sì Fascista A quanto pare Il racconto dell'epica nascita Dell'istituto Cube Del regime Anzi D'istituto Cube Perché è italico Ci ha guadagnato Un altro follower E che va Sì ho visto Ho visto anche un host Mentre stavo discutendo Delle possibilità Di hackerare un videogioco E non era fattibile Hackerare un videogioco E una cosa per IOS Però mi ricordo che non è possibile I trainer sono incasinati E devi avere il dispositivo Ma per quale cazzo di motivo dovevi? Eh non Perché me l'ha Cioè mi hanno chiesto Ci può fare Io gli ho detto Boh TheDemon2 Ha dimostrato buon gusto Benvenuto Ho già ringraziato Ah hai già ringraziato Ma è comparso adesso Eh lo so Però noi arriviamo in anticipo Lo sai Ok allora dunque Stavo andando a fare il drago Piff Prima che Andiamo a fare il drago Via Aspetta che No aspetta aspetta Questo lo metto qua Come mai sei finito così In culonia signori Sei andata a farti una passeggiata Come in culonia? Eh In culonia dove? Mentre tu non c'eri Ti ho spostato fino a qua Ma che cazzo Infatti non so Non so Non ho chiuso l'applicazione Ti sei trovato altrove Eh vabbè Non mi ricordavo neanche Dove avevo mollato Pensavo un po' Veramente Mi avevamo detto di picchiarti Non vale un cazzo L'armatura Non piglia danni Non c'è gusto Allora aspetta che Qua avevamo lasciato I quattro blocchetti di questo Non vi ricordo più A che cazzo Dovevo usare No all'istituto Che qua Chi comanda L'istituto E gli alti gerarchi ovviamente Eh certo Allora Che cazzo ci facevo con questo? Ah ok Ci infondevo Quindi mi servono almeno Altri 4-5 draghi Tutti di colpo Eh questo Sei già dentro? No Eh dobbiamo andare anche a cercare Endertown o come cacchio è? Sì giusto Ma più che quello Ho fatto un altro dislocator Sì Sì ho fatto un altro dislocator Più che la Polonia No noi questi invadono La Culonia Esatto Allora pronti? Ci siamo? La terra è molto fortunata Andiamo Frupp 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 Non c'è il drago Non mi ricordo Era tipo 200 blocchetti Chissà dove Il giorno si può rendere Io casomai vado a nord Aspetta 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 C'è un modo per saperlo Allora Intanto boundo Le coordinate In questo dislocator Dammi un attimo Che vedo una roba strana Ecco qua Allora quello è il dislocator per land Tanto per Qua c'è un bedrock Con una specie di droga Siamo un tesseract al centro Che cazzo è? Dov'è? Aspetta che arrivo Verso dove sei andato? Eh Verso nord Eccolo qua Lo vedo Questo è il portale per Elytra Dovrebbe essere Ma non mi ricordo come cazzo si attivava Ah ok Ho visto una cosa che non conoscevo Ma che cazzo Lo vogliamo segnare? No bisognava lanciarci dentro una roba Aspettate che non mi ricordo Lanci dentro il bigolo Lo faccio aprire il regime Via Aspetta che non mi ricordo Tanto è già senza calzoni Elytra Ender pearl Allora vediamo un po' Vediamo un po' come cacchio mi Cos'è che hanno detto? Ender pearl Ender pearl dentro L'ender pearl Non è l'occhio di ender Vabbè qua c'è uno piano di enderman Tagliamo le scrutinielle a un paio di enderman Aspetta eh Ecco qua Allora pronti Signore enderman Venga qui Signore Non si getti via Torna qua Continuano a schiantarsi di sotto Cazzo è volato Ecco qua c'è un altro Non morire Per favore non morire Cioè mori Dandomi l'ender pearl però Ok da qua posso picchiarli Allora non posso farci un cazzo Ok ne ho presa una Bene Ho fatto una cazzata Qu'è l'enderman Dice ti devi praticamente Te trasportare dentro Sì aspetta che Levati da coglioni Tanto ben tornato E ho benvenuto sul ganky channel Il canale che ti saluta Ok ho due ender pearl Ma dobbiamo tornare un attimino a casa Andiamo Allora per tornare a casa Semplicemente pucciamo i piedi qua Oddio possiamo fare anche tpi island direttamente È una cazzata Ma perché? Perché tanto poi devi farlo comunque tpi island Va bene in effetti Allora Tanto o destro ci dico Sì sì no ma aspetta Prima voglio fare un'altra cosa Voglio fare un altro dislocator In modo da potermelo sapere È un pedestal Allora Pedesta Anche il antivici sta secondo Suplice dimostrato Buon gusto Avrà Rewardato dal Dillir mustacchio di Serpillade a breve Allora Fiff mi porti un ender pearl? No aspetta Ne ho due di qua ma devo andare a prenderle di qua Vabbè aspetta Faccio io Facciamo prima Eh sì e buttare nella Nella cosa che così è meglio Devo ricordarmi di non craftare a stack Perché se no poi succede un danno Allora Non abbiamo più Ah eccola qua Ok Blade powder Pronti Flop Allora mi serve questo Poi mi servono 4 di draconium Rimacciniamo Opla Facciamo un dislocator Facciamo un dislocator per elitra Così la smettiamo Eccolo qua Vai servire Amico mio E racconta tutto Pausa accesso Torna in 5 minuti Ok Buona cagata La nostra benedizione Vada e faccia tutto quello che deve fare Teniti un ender pearl Perché ti servirà Mi servirà? La prendo dal sistema Dai Allora Adesso devo craftare Un dislocator Facciamo così Dislocator Ok Questo è unbound Allora Diciamo che questo è l'end E questo è elitra Da questa parte qua Ok Aspetta che devo Così c'è Ah no Non ci sarei più la torta Ciccia su questo Sì Aspetta Ciao Nico Benvenuto E ho bentornato sul GameQ Channel Il canale ti saluta Sono le ore 17.31 Il segnale orario Vedo il metto Offerto dall'istituto cube Allora Quella a sinistra È per andare nel land Pronti? Via Sì Se ti levi dai coglioni Ce la facciamo Se mi fa teletrasportare magari Ok Ci teletrasportare Direttamente sul Su quest'isoletta Adesso Dove cazzo era Verso a nord Ok A nord Andiamo a nord Ce l'ho l'endperl Eccola qua È a nord Sì Adesso c'è il problema Di tuffarsi dentro questo coso Vediamo un po' Se riesco Sì Fatto Io non ci sono riuscito Ha fatto un raggio Ha fatto il raggio Dei miei coglioni Dove hanno teletrasportare Mettiti sopra Sopra che cosa piffer Sopra questo aggeggio Io mi butto il coso Magari il raggio Ti teletrasporta Che ne so Vado Prova Ok Ok ci abbiamo fatta Allora aspetta che bando Sono troppo forte Di la verità Ma che cazzo di posto è questa Aspetta un po' Comunque dico Stiamo bene Stiamo andando a cercare l'itra Che cazzo è questo And in fair humor Intanto ho bindato In teoria possiamo tornare qua facilmente Ok Ok metti l'aggeggio va Quale aggeggio Che ne so qualcosa Mettici qualcosa Scaviamo Andiamo Facciamo Eh bisogna trovare una città piff Ma non mi ricordo dov'era Eh il punto è che dove cazzo siamo Eh un tocco Non mi ricordo quanto Ah guarda Qua c'è una Le trasportano Eh No 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 Aspetta Questa è Eh Questa è una bella domanda Che cosa Che cosa Dice Avete scopiuto il drago Gli altri come fanno Eh gli altri se lo devono Rissummonare Noi non è che possiamo Farci niente Ah ma non dimmi che Elytra è solo per le Per le ali Allora Vediamo l'end city Ok Questo Ok lo tiri di qua Increase render distance Ma che cazzo Vai piff Porta la render distance Quasi al massimo Ok aspetta Opzioni Tipo 30 Secondo me scoppia Fammi vedere Render distance Sotto chunk La metto a 31 32 chunk Via Don Guarda se vedi niente Me l'ha presa Fammi vedere Io non vedo un cazzo Aspetta Camminiamo verso nord Da qualche parte Arriveremo Dove andate in giro Dove andate in giro Fammi vedere un attimo Opzioni Vorrei che magari Non si abbia preso Sì sì Dobbiamo andare in giro Lo so Però speravo di trovarlo facilmente Eh lo sai che chi vive sperando Muore cagando Non te l'hanno detto E poi per tornare a casa usiamo il comando Tanto possiamo respanare Di là Parapapapara Non si vede Una fava Parapara Dove stai andando qui Eccola L'ho trovata Ho trovata Ho trovato Vai Aspetta che mi metto un punto qua L'hai fatta tutta signor Crustle Hai fatto veloce Crustle Allora aspetta che mi metto un punto Ma questa è una nave Allora qua Punto Che cazzo è questa cosa End city End cacca Però va bene Allora qua ci sono le robe Ma metto a spara sto coso Ma che cazzo Si sono le shulken Lo devo ammazzare allora Beh tanto le shulken perle Facciamo in un altro modo No aspetta Si potevano prendere in un certo modo Queste cose Vediamo se le spendanti funziona Ecco vedi Se le tocchi col destro Ti dà una shulken perle Fatto No la dovevo catturare Aspetta che forse ho ancora Si ho ancora la golden lasso Aspetta Ah ok Fripp Ah no è un mostro stile Con questo non lo posso recuperare Dei fargli la vial allora Eh dovrei farla vial si Aspetta che magari posso fare Col pendolo No il pendolo non funziona Ho già provato io Orca merda Tocca farsi la vial Per spawnare le shulken perle Ma me ne frego Dele shulken perle Vabbè lasciala quella Possiamo tornare a prendere la doppia Oddio la testa del drago Non aspetta la voglio La vuoi? Ce l'ho il magnete Ce l'ho Aspetta che si me la sto prendendo Me la zotto tutta Ahia Mi hanno toccato Mi ha toccato l'angelo Dove ti ha toccato l'angelo? Mentre aprivo la cosa Prendiamo anche le enderod Ah fottiamoci anche un po' di pillar Penso a questi Così a caldo? Certo Tanto io voglio entrare qua dentro Vedere cosa c'è Ci dovrebbe essere qualche chest Nascosta in giro Magenta stained glass Buongiorno Se può buccando Ho trovato le ali Ho trovato Fausto Ma questo è uno shulken Uno shulken del sarcazzo Dunque signor Nick Che ci racconta Visto che ci ha chiesto come stavamo E che ci ha riempito di gioia Non ho preso le cose per spaccare le chest Ce lo devo avere qua dentro Eccolo qui Perché? Cosa ci vuole? Il piccone non basta? No Il piccone è lento a spaccare le chest Non gli ho il mattock O una cetta Io ho l'accetta Ce l'ho anche io Infatti ho fatto Un breve instante dentro Ha due potion of healing Fotti fotti Dove l'hai trovata? Nella nave? Perché nella torre Non ho trovato una sera Sì sì nella nave Questi purple pillar Mi sa che mi servivano Per fare alcune cose Io adesso me li zotto Mi foto anche il purple block Ui purple block Sì 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 Fotti 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 Fottiamo con questa Fripp Ecco qua Oddio sono volati da sotto E cazzo è di tutta la nave Ti hai mangiato tutto Vabbè meglio meglio Ecco qua Intanto un elytra Allora nella torre ci deve essere roba però piff Boh Allora aspetta Ho provato a visitarla tutta Non ho trovato una sega Allora intanto mi foto l'endrod Le zottiamo bene Ci sono un po' di Di cose come si dice Di standardi se li vuoi Perché me ne faccio? Boh Te li fumi Intanto sto prendendo anche Tocca le schulken Con il tasto destro piff Lo sai che io fumo Se lo stiamo dando fuoco Comunque signorica Ver La verità E' una più sciata E' fatta tutta piff Ver Allora le schulken per le devi toccare Con il tasto destro Eh Questa non ne va già più Le devi già presa tu si vede Eh sì perché ne fanno una Ogni Non mi ricordo quanto Ogni morte di papa Dove sono finiti i miei succhi di frutta? Non lo chiederà a me Mi sembra che Eccoli qua Ok C'è gado Guarda Cosa mia Dove è con l'endroge? Che cazzo è pieno di enderman Non scapisce una fava Ok Non guardarli negli uochi Altrimenti chiedano un pugno Cazzo E' pienissimo qua dentro di enderman Non pieno Pienissimo Gli schulken sono missili a ricerca Ma le schulken per le facciamo prima Setacciando la endstone Che ho avuto prima Anche perché Mi sembra che Non ci sia un'altra resse hype Per le schulken per Ma io le trovate Ne avevo un sacco di queste Eccole qua Nel sieve al 10% Cioè Tanto ho messo un waypoint Ci posso tornare qui Andiamo a cercare qualcos'altro va Beh ne dovremmo cercare un altro Così ci Ma c'è un enderman che sta volando Guarda Un enderman che sta volando Sì Ha decollato Tipo ha sceso al cielo E poi si è schiantato di sotto Guardate che sto entrando qua sotto Non c'era niente davvero Allora Dovremmo trovare un'altra Per trovare un'elitra per te Continuiamo ad andare verso Verso il coso Come si dice Dritti Verso nord Eh A nord Dritti Dritti a nord Aspetta che Scendo un po' Per avere l'altezza giusta Ecco qua Piff stai scendendo un botto Non è vero Allora scoperta Allora scoperta che metto la roba qua Ho trovato una spada Exp boost sharpness No Ecco che è una cagata Fico Iron boots Ma certo Ci dica Irosandro Ci dica Questo lo mettiamo di qua Sul camper lo mettiamo di qua Che connessione ho per streamare Una 100 mega 100 mega Una 110 No 120 scusa Pisto c'è uscito Sì abbiamo voluto usare il trucco della corsa No questa cosa non finirà mai eh Serve un modo più furbo per trovare l'end city Mi sa che sono a distanza mille una dall'altra Tanto ha crashato la progetto zone 2 Che sfiga Eh Anche questo che dicono Eh il pacchetto è più leggero Però ci piava comunque 6 giorni e 40 per partire Sì C'è gente che c'è i cavagliocchi qua fuori Brutta roba Brutta roba Già Beh vedete voi Insomma Ma guarda che abbiamo la stessa connessione Mi sa è lui che ha la fibra Io ancora non ce l'ho Sono povero Infatti se mai l'avrò potrò streamare pure io Per ora sono soltanto ospite della stream Che faccio Esatto Mamma mia Piff fa la comparsata E lui che cosa posso fare? Però qua non ce n'è di questa cosa eh Non vorrei dirlo mai Eh vabbè Curviamo all'ovest Via Curviamo all'ovest Sì Ok curviamo all'ovest Questa cosa non Non è molto stimolante Vedete Noi che camminiamo nel nero Perché non si vede niente Allora mettiamo su una conversazione Ragazzi A che cosa state giocando? Dragons dice che va a cavarci gli occhi Brutte robe Ok Buona cavata gli occhi Mi raccomando di togliere tutti Non ne lasci neanche uno Perché il nero è proprio una palla Sì Guardate questo che bello Ecco qua Ogni tanto vi cambio oggetto Eh col boomerang Qui potete vedere il boomerang Che va verso il blu infinito Non torna più a casa Eh io non posso streamare Purtroppo Ma la mia connessione fa cagare Per caricare Ho trovato qualcosa? Dove? Qua L'ho visto l'ho visto l'ho visto Aha E un'altra end city Questa è più grossa Aspetta mettiamo end city 2 Guarda questa la chiamo torri Perché l'altra è la nave Allora Adesso bisogna frugare Pifa La ricerca di tutto Zota ha solo le end rod E se c'è E nelle chest Allora B Altra end city Allora pronti Cominciamo a zottare le cose Il piccone è rotto in vacca però Non va bene così Allora partiamo dalle end rod Ma che sono stendro Da che servono? Quelle cose bianche Servono per craftare alcuni oggetti Oddio Già le possiamo craftare Però Ci toccherebbe creare il Il frutto Siccome non ne ho voglia Aspetta che entro di qua C'era un end rod Ci vanno per caricare su youtube Un video di Di cosa Così c'è Di un'ora Ci metto tre giorni real Quindi Immaginati quanto Mi viene bene Streamare o Parcure Non è che perché c'è qualche cesta No Stavo guardando le ceste nascoste Ma da quanto pare Non Signore enderman Ha rotto il cazzo Così a caso Mi stanno attaccando Ti è Davanti Di venire un coccolone Allora Mo bisogna Sai che non lo so se qua Ecco Forse in questo Qua sei già entrato? No Io ancora non sono entrato Sto raccogliendo i rod da fuori E le perle Allora qua Non c'è niente Hai rotto il cazzo Andermet Lo dico Con amore Ecco Adesso sei levato di culo Questa non mi molla L'asciugiamperle L'ho già preso Qua ho preso tutto Mi sa Sì Fermiamo le end rod Perché comunque Dovremmo avere Io ne ho 41 Io ne ho 12 Quanto un cui erino a posto Qualcuno mi sparò Allora Oh Ho trovato una cesta Bene Anzi due ceste Mamma mia Che cos'è questa? Io ancora non ho trovato Mezza di cesta Forza merda Sto zottando l'impossibile Aspettate che le tollo però Tu sei uno zottone Ah mica c'era Uno shulkan di qua La cesta provo a salì Signore andermen si levi dai coglioni Comunque tornando a bomba Che gioco state giocando ultimamente ragazzi? Ah? Dolore Stai giocando al dolore tu Interessante Interessante Ma si scende un botto Aspettate che scendo un botto Mi sono arroccato un botto Si è fatto la bubua? No perché comunque non prendiamo danno da caduta però Ah no è che si sale da qui? Non ci credo mai Tu sali da qua ti fai tutto sto Sto brillonzio Arrivi qui e non c'è elitra Ahia Cos'era quello? Una laggonia? Cosa? Che è successo? Quando? Perché? Con culo? Mi sono teletrasportato tipo Beh? Grazie dice Rega secondo me se mettete la chat al video un po' più piccolo Non sarebbe male Che a me sembra abbastanza grande il font Era quello che credevo anche io Dile che fosse troppo grande Vabbè poi la faccio più piccola Si La riduco un altro paio di punti Oh qua è pieno di rod Minchia Si ma il nostro scopo è trovare elitra Cioè trovare un'altra elitra Perché io una l'ho già avuta Qua non c'è un cazzo di niente Guarda che la troviamo Io l'ho trovata appesa alla parete Come appesa la parete? Com'è fatta sta cosa? Eeeh un coso Un item frame no? Dentro c'è un paio d'ali Beh io non ho visto Non ho trovato a tempo per ora Allora qui è dove sono caduto prima C'è caduto Ove sono sceso O no Si si è dove sono sceso prima Allora qua sicuramente non c'è Si comunque ragazzi Se avete del feedback sul canale Siete liberi di Di esprimervi Alla peggio vorrete ignorati Alla meglio vorrete ringraziati Esatto Però esprimetevi Non abbiate timore Qua non abbiamo mai bannato nessuno O meglio abbiamo bannato solo quelli che hanno infranto la regola Aurea Quindi Sapete cosa fare Allora qua secondo me Non ce n'è Di Elytra Qua secondo me non ho trovato un bigolo Volevo anche vedere Ah perché in teoria ci puoi fare Questa cosa qua Oppure Elytra Enables Elytra Light Elytra Flight Non Light Si parla di giochi Oltre Minecraft M'ho dato il gioco a Shake and Fidget Io sono giocato però Non sono molto Amante dei browser game La qua No Dovete mettersela qua Al posto della mia armatura Non ci penso nemmeno Perché l'alternativa È l'unica cosa È per volare Oppure la usina di crafting Hai già rivoltato l'Elytra? No vabbè Perché c'era un achievement Per andare a raccoglierla Quindi adesso che la abbiamo L'accident è fatto Si quindi non ce ne frega un cacchio Tanto abbiamo di meglio per volare Esatto Beh oddio Già non è cattiva Però la devi mettere al posto dell'armatura E quindi Non va bene Perché l'anello non ti fa Togliere l'armatura Esatto Possiamo andare a casa Quella va al posto dell'armatura Per planare Neanche per volare Quindi via Slash No no Tipee island I27 Via Fatto Siamo di nuovo al centro contro No Ho tirato una lagganzia Io sto cadendo Ho preso un sacco di danno Che cazzo succede? Cazzo siamo caduti nel nulla Niente No aspetta Qua c'è qualche bug però Si Non so neanche dove sono morto Un cno home Perfetto Ah mi sa che forse Ti ha trasportato Non nell'overworld mine Eh ma non lo deve fare Capito Tipee island Ti deve portare qua Che cazzo di armatura hai addosso? Ti vedo tutto strano Non ne ho armatura Hai un'armatura strana addosso Ah non c'è split Ah perché ha soulbound Ce l'avevo in inventario Trovate dall'elitra Allora Adesso bisogna vedere Perché non possiamo Facciamo da qua Tanto non succede nulla E muoiono Ma che c'entra? Quello deve funzionare per forza Entra mondo E invece no E invece deve Ci sono elitra E le elitra sono solo nelle navi Intanto C'è dragons che se la ride Vabbè prendiamo la armatura rossa E andiamo a recuperarci la roba Eh il problema è Se possiamo Perché noi siamo morti all'altezza del void Fammi vedere E dunque anche io sono morto qua All'altezza del void Ti fa una cosa Un bloccato sopra Dimension overworld Dimension the end Qua 215 metri Perché 215 metri? Ok Allora L'armatura Te la sei fottuta tu L'armatura Cosa? L'armatura rossa No L'hai messa tu giù Nabbo Eh Era qua No era giù L'hai spostata Non l'hai già dimenticato No non l'ho mai spostata Piff Si che l'hai spostata L'ho vista poco fa L'ho anche detto in live Anzi Si vede che signore l'ha spostata No no Non l'ho spostata io Ma chi cazzo l'ha spostata Di suo bambino Queste cose erano qua su Ma che cazzo vedi Che l'ho visto poco fa Ah sai perché Perché questo Soffre la gravità Aspetta eh Cosa soffre la gravità Le armor stand Soffrono la gravità Ah Hai scavato un buco E ci sono scese Può essere Allora aspetta Adesso lo proviamo Ah no Lo proviamo il chezzo Non ho comunque un piccolo Vai recuperarti la roba Fa fare una bella figura Così poi posso recuperarmi la mia Aspetta che voglio fare una prova Con un pickaxe d'ossiliana Questi che c'hanno Cade come fogore dal cielo Si vedi cade Cade così Cazzo mi sono rotto No no Figurati amici Si rovinano per molto meno Non mi capisco Allora Dunque fatemi prendere Un piccone Si qualche blocchetto E forse Già che ci siamo Faccio un altro magnete Allora Cosa No Va bene Niente magnete Vaffanculo Blocchetti abbiamo detto Chissà dove cazzo C'ha stato asportato No perché mi segna 200 metri Capito Da qui Boh Guarda dove Tra l'altro Non avendo più il backpack Non ho neanche dentro Le cose Quindi mi tocca andarci a piedi No aspetta Per andarci a piedi Mi tocca Ma io waypoint qua non ne ho Mi sa che è nel land Si è nel land Però Adesso lo devo vedere Altre in the city Avevamo il volo attivo Quindi com'è che ci siamo Schiantati sopra Non lo so Però vedo il dead point È a 2900 metri Di altezza o di No 2900 metri di distanza Ah ok Boh vabbè Adesso cerco di arrivarci Cazzo ci avranno 6 giorni e 40 Aspetta Facciamo una cosa più furba Scrivi quando arrivi Cosa? Allora adesso io Mi metto su quest'isoletta Perché non possiamo tornare Ma scusa Poco fa siamo tornati indietro Col TPA Allora facciamo così Puccio i piedi di qua E faccio qualche altro dislocator Faccio il dislocator Nel punto della morte E poi te lo porto Perché altrimenti non Ok grazie Cazzo ma ci devo pensare Che è la mia di tomba Fagli la piattaforma In intorno A meno che non abbiamo sbagliato Cioè Ma no Cazzo il mio nome è corto Dovete trovare nell'altro end Sì abbiamo trovato Tutte e due In la stessa maniera No ho capito Abbiamo il ritardo sincronizzato Porca miseria No non è così Allora Fatemi fare un po' di polvere Di questo Se devi tornare nell'altro end Non trovi nulla E sta a vedere Che dipende dal fatto Che eravamo In quell'altro end Boh può essere Ma le dimensioni Sono dimensioni Il comando è intradimensionale Quindi non c'è Non so cosa dirti bro Non c'è cosa che tenga Forse dovevamo tornare Nell'end normale E poi dagli tpa funzionava No Perché devi Con quei comandi Esci da qualunque parte Eh Per adesso siamo usciti Da questo corpo Aspetta scusate Tanto ho il comando Che posso fare di qua Slash Home set Vediamo un po' No Slash set Home Ok Quindi questa adesso è casa mia Se io faccio così Eh Allora il comando home È ultra intradimensionale Deve funzionare Da qualunque altra parte Quindi Adesso Riprendo queste cose E facciamo un test Per la scienza Sì Ok Allora mi serve Un altro occhio di ender Questo Occhio di ender Un ender pearl Che cacchio dici No l'ender pearl Mi serve per andarci L'occhio di ender Mi serve per Fare un dislocator Ah ok 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 No hai ragione Questi hanno speed No Allora Tocca volarsene Vai Io intanto rimango qua A ballare C'è già più di un bug In questa cosa Però vabbè In teoria la devo tirare così Allora Quella è la mia death point E sono comunque 2900 metri Però adesso posso andare così Ma perché è lì? Guarda dove siamo andati Assolutamente al contrario Di dove Dove dovrebbe essere Non lo so Non ci sono nel land Io Non ci posso andare Eh ma è assolutamente Al contrario rispetto a dove dovrebbe essere Non ho idea Eh noi siamo andati verso nord Questa è verso sud est Oh ciao Ciao Val Italy Benvenuto e bentornato Sul Gamecube Channel Il canale che ti saluta O che ti dà un bel tornato Meno male che abbiamo sempre un piano di riserva Mamma mia Che ci racconta di bello? Come mai ha provato su questi Gamecube Cilidi 1700 Vedo anche che qualcuno si è iscritto Chi è Piff? Probabilmente sarà Perché non posso mollare il tasto Altrimenti perdono il bonus speed E ci arriviamo all'anno della nappa blu Sì sì Tranquillo Sì io vado all'Italy Che è venuto Ci ho saltato E ha dimostrato buon gusto Vai Serpilale Fai la sbadanza del buffo Sì Ma voi giocate col Barlog? Sì? Sì Questo qua è nel server dove lui fa le live Della Gameaolix Factory Perché noi facciamo parte di Gameaolix Facciamo parte di Gameaolix Facciamo anche noi Li abbiamo fondati insieme col Barlog e con il D-Stark Quindi ci mancherebbe che non facciamo parte di Gameaolix Ci sono quasi 600 metri Ma siamo i tiri che ieri l'hanno shotato male con la torretta Quando è venuta a prendersi Lender Pearl Esatto Siamo noi Siamo quelli cattivi Siamo quelli di due infami O è vero Due infami Mi sa che sono sotto il limite del void Sai? Non è possibile Sotto il limite del void Non è possibile Ah no eccole qua Aspetta aspetta forse le vedo Le vedo le vedo le vedo Eh già Cazzarola Guarda un po' Se nel pomeriggio ti va di vedere le nostre live Noi intanto facciamo Se ti teletrasporti al death point è tipo metri sotto il void Adesso ci facciamo qua I gigabug Sono cose che decapitano E poi hop Oddio Il signorii conosce bene la modpa Che sa come agire per avere le cose in fretta Esatto Purtroppo sappiamo quali passi compiere Infatti Li compiamo E il regime di ciò è felice Esatto E il regime che te lo chiede Verso l'autarchia tecnologica Oddio Che è successo? Non è che stanno L'abbiamo già fatto il punto lunghissimo Siamo arrivati dagli star che siamo arrivati a dorso di maiale Esatto Infatti si vede nella sua live noi che arriviamo e rompiamo le palle Che gioia Allora qua ci siamo Adesso mi bindo questo Ok In teoria In teoria pif potresti anche teletrasportarti a me col tpa Se non ricordo male Aspetta che Com'è il comando? Aspetta che sono pieno Oddio sta succedendo un danno Sta succedendo un danno Tanto non ho nulla Se anche casco e crepo Che se ne inzono Aspetta però che devo recuperare il mio backpack Sto arrivando Ci provo Aspetta 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 che c'è la mia roba Fermo Non farlo Uno danno Eeeh Papapapapara Allora buttiamo via un po' di roba No questo no Papapapara Ok ci sono Vai Fai il tpa Questo me lo rimetto addosso Non funziona Come no? Fanno un comando Slash tpa Spazio di 27 Non funge Eeeh Fai il Ah no forse non puoi fare slash tp Va bene Arrivo Te preoccupas Aspetta che provo Allora aspetta che non mi voglio teletrasportare però Ah ma non ho un'altra cosa bindata Si che è una cosa bindata Non ho permesso per usare way command Ho un dislocator bindato A casa Che è questo qua E deve funzionare Fungi vai Dovrei essere a casa pif Non ti vedo Ok se ti vedo E vai Allora questo è quello bindato Questo è quello Ma ne ho anche un dislocator bindato a casa Questo è quello Aspetta che No il magnete Te l'hai preso te Eh si stava tirando tutta una mondezza Allora Questo è quello bindato al punto di morte Ok provo a usarlo Spero di non schiantarmi Che se perdo questo Come cazzo ci arrivo Vai Aspetta ma ce l'hai Ah si dovevi averlo addosso Quello a fare bindato Per tornare a casa si No è nella mia sacca dorata Eh vabbè Quando arrivi là lo prendi Mi presti la tua armatura un attimo Anzi no meglio di no Non devi volare Vado Lì te l'ho bindato io Dovrebbe funzionare perfettamente Ok Per un attimo sembra stessi cadendo nel vuoto Invece può essere fixato No è quello il lag Il paura è terraria a Las Vegas Quello è la lagonia Aspetta che mi rimetto l'armatura Aspetta che mi riprendo Vabbè questo cazzo di armor stand Ok Oh eccolo qua Allora armor stand Si torna a casa Scotti Anzi aspetta Poi no togliamo sto cazzo di weapon di merda Vabbè Qua mi serve una cobblestone Allora questo è Perché non Allora forse lo rinomino Forse lo rinomino Allora Qua Dunque si poteva rinominare Sì adesso lo chiamo casa Dammi quello del death point Aspetta Aspetta che devo disattivare sta storia Qui To piglia Allora è questo qua Lo buttiamo No conservalo non si sa mai Allora la va rinominata Aspetta Venti che la prossima volta che ci trasportiamo Ci ributta in quel cazzo di angolo Cazzo ho preso 174 livelli No aspetta Siamo nei 10 Si abbiamo ripreso tutto Chi è che rompe il coglione? Certo che abbiamo ripreso tutto Allora Guardate un attimo telefono Spiegaglielo tu come abbiamo fatto a morire va Si La death point E questo è casa Perfetto Evitiamo di fare altre cacate Si si siamo Ci siamo teletrasportati nel void Chissà come Oddio quanta mondezza qua dentro Ok Allora dunque Un momento Facciamo un po' di pulizia Allora l'armatura rossa la possiamo rimettere A posto È stata molto utile Dove cazzo sono finiti i miei armor stand? Eccoli Allora l'armor stand la mettiamo qua Tiè 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 Oh Adesso mi rimetto la mia Dove sono le pepette? Ce l'hanno qua dentro? Eccole qua Ok Un attimo di terrore Comunque Questi via Questi via Questi via E ti fanno cagà Nescio il camper va bene Una golden apple la buttiamo qua dentro Questo e questo e questo Una testa di qualcuno va bene Una testa E scale Questo che cos'è? Mega spruce taiga Cristallo del bioma Tanto non è che dobbiamo cambiare i biomi Allarme Le bestemmie Bravo così si fa bestemmia tutto il giorno Non metterti problemi bestemmia senza reni Allora questo così Questo così Mi manca qualcosa Allora facciamo così Questo qua Questo qua Questo via Questo qua Mancano i blocchetti Mancano i sciucchi E mo' I casini Allora questo è casa Mettiamolo qua dentro Allora questo me l'ho P Questo è The End Ma sono le La città Quindi Qua chiamiamolo Elytra Elytra Perfetto E lo mettiamo qui Vado a poterlo raggiungere subito Ok Quello Elytra Questo Me lo ripiglio Lo chiamiamo End End La Perfetto No Ho fatto una cagata L'ho usato Porca merda Quindi perdi un utilizzo Vabbè Non che mi freghi niente Facciamo una cosa per la scienza Vabbè da qua funziona normale Si Allora Coso Devi andare sul pedestal Oh Allora A colpo di bestemmia sfondavo la porta Bravo Il regime se vuoi Ti presterà un ariete Allora mi prendo questo La testa del drago Che Ma certo La testa del drago Ma certo Cazzo questo è dispari però La mettiamo qua Al controllo e migrazione Tiè E dispari anche questo Porca merda La mettiamo qua su Tiè Va che roba Che meraviglia Allora Questo via Poi Che cosa abbiamo trovato Queste sci Questo Questo Abbiamo trovato I litra Il brewing stand Due ceste Una spada Questo Questo E questo Questo Tutto questo Va bene Il piccone di carta Va finito Questo Non serve più Ormai Chi se lo incula Due di questi Va bene Questo lo posso Metter qua Piri 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 Questo lo posso Metter qua Questa Per una cosa Successiva Allora Questo lo buttiamo Questo lo buttiamo Questo per la lava Va bene Allora E litra La possiamo tuffar qua dentro Questo Questo E questo Questo che cosa aveva Sharpness 4 Come ha come XP boost Va bene Questa è mondezza Questo fa cagare Pozioni di cura Questo Non è che abbiamo messo qua Delle Ok Non le abbiamo messe Allora la metto qui Hai sonno Brute robe Ho sonno Anche io Ma Non si può Cedere al sonno Una leva Alla testa Aspetta Allora la sposto Perché da qua Non mi Da qua Non mi gusta Allora Lever Eccola qua Ok c'è so Ubi Allora P fa il controllo Immigrazione Mettiamo una di queste Guarda Cosa? Che è quando? Aspetta che arrivo Nesta è il drago? Si Vedi che fa Il movimento Così a caso? Eh certo Tanto Siccome non stiamo laggando Allora Fatemi rivedere Il libro degli achievement Dunque Tanto abbiamo andato Mezza pesca con la crema Me la sto mangiando Sapevattolo Buildcraft Dove cacchio era? Travel to the end E obtain illitra Fatto Poi dovremmo Fare un uovo di drago Più avanti In teoria dovevamo Uccidere un altro drago Piff ma va bene Se puoi mangiare Lo faccio Dammi un attimo In teoria si potrebbe Craftare una Supreme Apple Ma bisognerà fare Tutte le altre Prima Ma tanto Muore agilmente Anche senza Bisogna L'Apple Ah provo ad aprire No L'Apple mi serve Per fare l'achievement No Allora Craftatot Piff non ti si capisce Quindi o metti Il microfono più vicino Ma dicevi Craftatot Apple è l'achievement Eh La cosa vuole Che lo crafti Quindi Devo craftarlo Le ho già craftate due Di Apple No 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 Quelle le ho trovate Ah ok Allora niente Ah vuoi venire un attimo Qua da me Alla botania Qual è il problema No non è un problema Dai fai sta cagata Madò È diventato verde Signori Pronti Adesso possiamo Potete vedere Davanti ai testimoni Che abbiamo fatto anche questo Allora Essenze Mi serve Mi serve questa E me ne servono Altre due Ne farà quattro Poi altre due Ne farà quattro Ora questo dovrebbe impedire Alla Vanat Tower Di bloccarsi Perché continua a consumare mana Costantemente Che merda che sono Ma ogni volta che faccio qualcosa Piff ha sempre da chiedere La cosa mostruola No Per farlo vedere agli altri Furbone Perché quello che tu lo vedono sempre Quello che faccio io Non si vede mai Perché è la cosa migliore Piff Questo perché Siccome non ci arriva il ragazzo Quello è il problema No Perché è la cosa migliore Allora Supreme Apple Fatto Allora Fammi vedere se Fra la cosa della botania C'era qualcos'altro Portale Fatto Della Le living stone Da trasformare La merda Così diventa un cane Non mi pare Allora Io qua avevo messo A fare Un altro po' di hit conductor Ma non basteranno Dove è la mia wand Eccola qui Quello avessi finito Eh No Non è a te Rubes Allora Qui Un'acqua Finito Finito L'importante è ammetterlo Tranquillo Noi ti perdoniamo Per quello ti diamo Solo una tripla dose Di olio di ricino L'ordine di lui Questi sono 14 Più 14 Quindi altri 28 Hit conductor Questa è buonissima signori Voi non avete idea 28 Via No Me ne servono 30 Perché 2 Li devo mettere in basso Vabbè Tra un po' signori Sarà pronto Tra un bel po' Ahah Secondo me Crea un bug Mostruoso nel server Questo affare Sapevatelo Attento C'è Dragons Che ci dice Che è drogato Ok Ah Devo fare Il coso per il binit Aspettate Drogato non so Ma da questa cosa Sembrerebbe un po' bipolare Non c'è problema Vogliamo bene lo stesso Dragons Allora Shape to play Shape to play Non ne ha fatto manco uno Va bene Però per il binit Sappiate che Se questa cosa Quando lancia Crasha il server Verrà messo Nei motti E inchiucciarmi Il canale Che lascia il server Allora mi serve Una della quadruple E una quintuple Poi mi serve Dell'altra robaccia Uno Due Tre Quattro Plop Ok Con questo possiamo Teletrasportarci Al binit Questo lo lasciamo andare Va Fumo le finestre Va bene Ok Piff Pronti per un altro Teletrasporto Questo è il binit Lo metto qua Mamma mia Mamma mia Signori Quanti Teletrasporti Oggi Quanto è questo A 28 Me ne servono altri due C'è qualcosa Che non sta pumpando Con sto portale Cosa stai facendo Piff Ci butto dentro la roba E lui non me la rende Allora Mancano solo due Di questi Gazzilli Ok Mi ha aggiornato Il Come si dice Il libro Però Perché mi ne ha fatti Tre di questi Ne avevo chiesto due Boh vabbè Allora In teoria Ci manca la roba dentro Lasciamolo aperto Questi li lasciamo dentro La cosa E la roba rimane di lì Sembra enorme all'interno Non è che sembra È enorme È enorme Allora Chi ho la roba Appena il piff finisce Andiamo nel binit Allora Di queste Me ne servono un po' Non le avevo fatte Cera Allora Crafting CPU Quello signori È un chunk Per me c'è C'è un crafting storage Che lui non conosce Bisogna farglieli apprendere Dunque Di questo dovrebbe C'è per tutto Vediamo un po' Tutto al più Mi dà errore Se voi andate Al museo Dei pesi e delle misure A fianco a Il metro Il kilo Queste cose così Che sono immutabili Ti trovate anche questo Che è il chunk Allora Di questi Me ne servono Giusto 32 Vediamo cosa Gli manca Sicuramente Avrà problemi A craftare Questi I construction core Li devo far fare a mano Non so perché Baga Quando cerca di costruirli Quindi Vediamo un po' Core Cos'è che Bisogna per creare Un construction core Non ti preoccupare Crasti Anche se ti addirittura Con le tenaglie Tu Sentiti libero Vai Finchè non imprangi La regolaurea Fai quello che vuoi Facciamo un po' Di basic processor Via Poi gli faccio fare Un po' di construction core E chi si è visto Si è visto I bucchini Sono le fregne Nello spa Ma che cacchio Che brutte robe Signori Che brutte robe Canto sono diventato Un rosso malpelo Con questa cazzo Di pesca La crema Che si è una sozzone Gli sono fatti I baffi rossi Niente Adesso bisogna aspettare un po' Vabbè Non è che ci cambia nulla Allora Hai fatto benissimo A trattenerti Allora Gli semi Perché Non li ripianta Del tutto Io ho detto Di non ripiantarli Però Volevo che comunque Li mettesse Per adesso può restare così Che non si esaurisce Qua sono riempiti Due di questi dischi Li segnala gialli Bene Siamo al boomerang Mi sa che la prima volta Per tornare a casa Uso il dislocator Un po' coge con cattiveria La 43 Io ho settato la home di qua Il comando home deve funzionare Vabbè Pronti per il drago? No no Adesso andiamo nel binit Pronti per il binit? Ci andiamo tra un attimo Appena metto a fare questa cosa Perché se no Ognuno sei giorni 80 Non so quanto il portale Risolva il problema del mana Perché a quanto pare Ne produce Con i suoi burst Così tanto da far aumentare La quantità nella pool E il portale Non fa in tempo a ciucciarla In abbastanza Comunque stanotte A metterlo a craftare Degli altri solar panel Così La notte Lui lavora Dicevo La notte lui lavora E non ci sono problemi E dice Hitler, Milo Anzi no Meglio Stein Why not both? Fatto Molotron Ribbentrop Via Allora di questo momento 32 No E allora mi servono Altri di questi Questi qua Comunque vedremo una cosa Più gli odrici Non ho raggiunto E fa morire a ridere Cazzo E certo Piff Non va bene Allora Abbiamo detto Come si chiama questo cazzo di cosa Crafting Storage 32 Via Vediamo un po' Hai tutto Perfetto Pronti Ok andiamo nel binit No Prima ci ripariamo La piccozza Vedete che io mi riparo L'armatura Intanto Allora Per la mia Ci serve Del cobalto La mia è una piccozza D'acciaio Di merda Intanto tra un po' Cambiamo piccozza Andiamo con quelle energetiche Dovrebbe ora La fare interamente full Eh non lo so La dovrò fare interamente full Per Ok tanti auguri Ti dica che il regime la saluta Dragons Ciao ciao Certo Allora Tor ce ne abbiamo Si Qualche blocco ce l'abbiamo Si O anche queste cose che non devono stare qua Eh ci sei Piff? Si Devi toccare questo blocco nero Pronti? Questo? Via Sono già andato Tempo di caricare Ok questa è la dimensione nera Ci serviva Una roba con Con night vision Ecco qua Prosperity or Non mi ricordo Cosa faceva se questo Ah si è vero Ci fanno volare giù gli shard Non mi ricordo se in questo Ti attaccavano Si vabbè Pieno di mostri Vabbè io ho portato il boomerang Dici un charger creeper Oh cazzo Piffo c'è sceso Uh c'è un creeper Aspetta che lo saluto Ciao creeper Cos'era copper ore Non si vede una fava Qui è pieno di mostri No dove è? No Dove è il problema Piffo? Questa che gli tiro Niente li sto ammazzando Oh ma sono resistenti questi Ha il colpo di boomerang Li squaglia Eh si AIA Mi scoppio un creeper Sul copi Cazzo Piffo Quelli sono i guardiani Non stare al buio Sono cieco Non vedo nulla Vola Puccettone Vola Per me io stavo volando in realtà No Ah Buongiorno signore Voleva toccarmi eh Non mi tocchi Oddio Questa era gente brutta Chi è questo? E di Errucus E di Errucus Ok è morto Io volevo vedere che cos'era questo No 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 ma che Furex Gli alti gerarchi E qua siamo alti gerarchi paritetici Ok Piffo siamo andati al Benito Torniamo al punto di ripartenza Possiamo Ingressa Non c'è niente da raccogliere qua di interessante Cosa? Cioè non c'è niente da raccogliere interessante qua A parte ore a potigliardoni Ma è solo gli ores Sai cosa potrei fare io invece? Cazzo sono cieco Io non faccio una pera Perché la ciumente è andare al Benito Poi quando troveremo modo di sfruttarlo Magari Posso livellarmi la Steel Pickaxe no? Cosa? Posso livellarmi la Steel Pickaxe Anche quello è vero Il problema è un altro Quando livelli questa cosa Si spacca a manetta Eh Tu ne potrei fare la Unbreakable però Ok Ok Oddio cazzo morrendo di fame Vola Puccettone Vola Fatto Stavo morendo di fame Intanto mi si è livellata Però Ma ha fatto il culo come un canestro Cosa? Il grue Che è il mostraccio Sparisci O metti torce o ti fanno il culo come un canestro Piff Sapevatelo Le torce non ne ho Bauxite Questa è cazzo Copper Insomma ha ravanato più di un terzo dell'armatura Allora adesso ha 5 modificatori La faccio Che non si rompe Vaffanculo Così Ah eccolo qua Lo vedo il grue Eh ma non lo puoi colpire? Come no? Sparisce Perché si è alla luce No ma lo vedevo Come mi sono avvicinato è sparito Eh Perché si è avvicinato alla luce No come mi sono avvicinato io a lui Lui era all'ombra Mi sono andato sopra Stavo discendendo Mi hanno fatto puff ed è sparito Allora questo magari lo deposito qua Questa cobblestone non me ne faccio niente Adesso la cobblestone fa brutta fine Pronti hop Che cazzo è sta cosa? Vale hop Fatto Un red orchid Carino Allora adesso devo Prima di tutto riparare il piccone Ma c'è un fantasma Ma che cazzo? Poi avevo messo di qua Degli upgrade Eccoli qua 5 giusti giusti Ripariamo questo Gli mettiamo 5 di questi Dica dove l'ha toccata l'angelo Ecco qua Adesso questo è unbreakable Quindi possiamo spuntare un'altra quest Che diceva Crafta un unbreakable tinker tool Eccolo qua Oh qua c'è il marble Poi diceva anche Devo fare un weapon melee della tinker Che fa 20 di danno Questa quanto ne faceva? 13 Mi sa che con 4 modificatori di attacco Non ce la fa raggiungere i 20 Si fare Gaia Al tempo al tempo Si farà anche quello Si per quello serve un attimino più di preparazione Il drago è più semplice di Gaia Sapevatelo Si Fatemi vedere cos'altro dicono le quest Allora Questo lo potrei fare così A caso Il reattore A travel to the beneath Fatto Poi Piff si dovrà uccidere volando In fondo al nether Con una Con una barca Vedi che carogna Poi vediamo un po' Il reattore Il reattore si può fare Qua la chiama Extreme Chiocciola Guarda che ho messo la fornace un attimo come Fornace only Che sto cucinando da pietra Si si mettila Ma la pietra c'è Eh ma ne ho scavato un po' Livellando il pickaxe quindi Tanto valeva Allora Allora questo via No non 32 Fermo la Cancella Perché lui in realtà Non è Un vero che è in più biano Lui è molto Compagno Tu lavora io magno Lui piace così No? È uno zozzo Ma come È sempre Piff che ha fatto Quel achievement Quindi deve andare Forza Piff vai Sempre Piff che ha fatto Quale achievement Non è vero niente Nella 2.5 c'era lo stesso achievement Ma non l'abbiamo fatto Si che l'abbiamo fatto No? Si Non mi sono suicidato con una barca Certo che ti sei suicidato Ah mi sono suicidato io No Io non mi sono mai suicidato Su una barca Facendo questa cosa Sappilo Si che l'hai fatto Mi ricordo bene Noni Io no Perché tu sei rincoglionito? Non mi torno Lasciamo perdere chi era rincoglionito Oh ma l'hai spostato l'armatura Oddio In realtà Mi ha fatto tutto lui Eh tu hai detto L'hai spostata Mi ricordo Non l'ho spostata Non l'ho detto Mi ricordo Ti ho detto L'ho vista poco fa Che l'hai spostata di sotto Eh ma io ti ho detto Non l'ho spostata Infatti non l'ho spostata È caduta da sola Sì Il buco si è creato da solo Ci posso credere Certo che si è creato da solo il buco Eh beh Anche tu sei nato con un buco Piff C'hallo Le grandi rivelazioni Le balle escono da un buco Eh E se sei quella famosa GIF Entrano anche in un buco Le balle Allora Vi servono del reactor case Non so se te ne ricordi quella GIF Quale? Ah sì Non la ricordo Non la ricordo Sì 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 Allora che ne so Voglio vederlo in prima persona La achievement Che ne so Ne facciamo 60 Ti manca una e dopo la V Perché a chi è Ah però questo Gliel'ho messo di qua Ma Ho fatto una cazzata Non ho messo questo Nella fornace Allora questo Vai di qua Adesso gli possiamo fare Dei reactor Numero 64 Pronti Ah c'ho Un attacco di torcicollo Che me ne basterebbe la metà Ho la soluzione Taglialo Che dolore Aiaiaia E adesso questo Di cosa lo riempiamo Di gioia e carità cristiana Che cosa? Questo Hict conductor enorme Di un giovane Adesso lo riempiamo di roba Eh gioia e carità cristiana In effetti Finiamo a quello Un po' Allora Erano le crafting Che non gli ho fatto affare O sì Credo di aver appena sentito Un cane e morire in diretta Fantastico Cos'è che ha fatto il cane Fiff? Un rumore di cagnetto Che abbaiava Poi un rumore di cagnetto Che guaiva E fine del rumore di cagnetto Rumore di cagnetto Schiacciato Piff Ovviamente si è beccato Un mozzico Da un cane più grande Oppure si è beccato Una ruota Sulla schiena No perché Il caicai è stato più prolungato Se fosse stato una ruota Se fosse stato Sflocci Allora Sì perché qua c'è un sacco di gente Che ha i cagnetti Quelli piccoli Apri il cancelletto di casa E lo fa andare a scappo libero Ovviamente se poi Quello incontra un cane più grande Li va a rompere le balle Che è il cane più grande Salomani Questi sono 32 blocchetti Ma per fatto Quindi tipo serve uno stack Mamma mia Eh diamogliene mille Chissà se riesce a farli Allora mille crafting cpu Gli ero data No Non gli ho dato la recipe Adesso gli do la recipe Pronti A che ti servono questi purple block Sai che non mi ricordo Aspetta che lo vedo Mi serviva forse per fare il seme Del land Ce lo metto nella refiner Anche questi Anche questi va a gente Abband Allora Mi serviva per fare Non la void stone Allora il generatore è da litosi Questo si E l'end cluster Mi servivano per fare l'end cluster Forse bastavano Bastavano prenderne tipo 16 Vedi che fa anche bene Se te lo mangi Allora Ecco qua Crafting cpu Che ne so Non riesci a farmi di mille Non credo 960 Aspetta che stai implovendo Ho provato a start E non ho fatto un cazzo Iii Ok Sai che ci vorrà Finiamo la nuova lampa blu Qua ci sono 9 draconi Un dust Cosa? Nella cosa Semi dell'overgrowth Non ce n'è Sono 5 chance cube 9 draconi un dust 3 paia di diamond boots Un diamond helmet Una diamond torch armor 3 magical bean Una golden apple E 2 chance cose aedron Allora Questi ce li abbiamo Via Bisogna fare un altro seme Del Del cosa Come si dice Perché? Due Forse due Del quartz and raced iron Però Ok le possiamo Mi arrivate la cacca di gallina Allora ok Due seme del quartz and raced iron Mi sembra che sia un tier 3 Allora Quartz and raced Eccolo qua Ecco qua Allora Guarda che bello 3 Fammi ne 2 Pronti Poi dell'essence Di queste me ne servono 8 Via Ok Quindi questi adesso Li mettiamo qua Da qualche parte Ok devo disattivare il magnete qua Perché mi arriva troppa roba Che invece dovrebbe andare nella farm Sarebbe una bell'idea Sarebbe una bell'idea Dov'è il quartz and raced C'è ne deve essere un altro qua Stil Quartz and raced Ok Qui Perfetto Qua la farm sta procedendo Dovremmo avere anche del Come si dice Già del terra Stil Quante pagine vuoi mettere? Ho messo 32 pagine Nella reborn Per gradire Non sia mai che poi si esageri 32 pagine Penso che siano sufficienti Casomai si espande Sta craftando a fischione Mamma mia Fatemi pensare Cosa stavo facendo Ha il terra Stil Non c'è il terra Stil qua Perché per forza Se non gli do la recipe Terra Stil mica va Elementium Pixie Dust Dragon Ok mi sa che abbiamo già Quasi uno stack di terra Stil Bene 30 pezzi Quasi uno stack il chiezzo Quindi mi servono Due di questi Uno di questi Io vado a cicciare Un po' di crafting cpu Dentro Cazzo Sono a posto 2700 Mi sembrano pochi 2700 Ce ne devono essere Di più qua dentro Ok Mo sta funzionando Non so perché Dar passi Ok Adesso si può usare Questa Mamma mia Non finiranno mai Sti blocchi Vediamo un po' Se con l'ict conductor Riusciamo già a vedere La macchina Così 14x14x14x14 Sì 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 Dovrebbe essere più o meno così Allora il vuoto Mi sembra che non Non sia Non sia tollerato Quindi può darci che non Mi servono Un po' di questi Facciamo subito Un test Guardate Lo mando da qua Le torce all'interno Ah anche quello È vero Però Potrebbe Spawnare Della roba Aspetta ma perché non Ah ecco Bene Qua spanno un fischione Di mondezza Sapevatelo Uh Edimentium Shears Carino Ok Rod of Bifrost È stato fatto Voila Allora vediamo un po' Cosa succede Dovremmo vedere Un incremento Nel consumo Se Allora questo consumo 191 RF Su Tic Secondo me Non lo vede Deve essere pieno Quindi Mi serve Del mana glass Allora Che cazzo sta succedendo Mollami Che cazzo ha fatto Ogni tanto salti nel tempo Brute robe Che Eh Sono appena saltato nel tempo 191 RF Su Tic Non lo vede Però vede 32 crafting storage Di là 1200 Hit conductor Però non li può usare Vedi Non può usarli Quindi questo Deve funzionare Prendiamo questa Che è più piena Va No no vedi Non le apre Non le apre perché Non è Non è pieno Oddio che brutto Salve signor ragno Crepi male Che stai a fa Perché non parte il mio boomerang No sta lagando come la merda Piff C'è il server Che cazzo sta succedendo Oddio Salve signori No tu mi devi dare Tu mi devi dare quel blocchetto Lo sai Piff mi servirà una mano qua Perché È pieno di mostracci È pieno di mostracci che fanno party Dove sei Dentro la Occhio che ci sono i creeper Non voglio che scoppino Nel Benitz No dentro Dentro il Dentro il super tubulare Ma come è mai spavolata la roba Perché ho tolto le torce da dentro Aspetta che gli tiro i colpi con il boomerang Eh ok Tanto gli tiro i colpi Li tengo di qua FUOK Però cominciamo Mentre c'è una torce Stanno esplodendo Ok Meno male che non c'è il no griff Va bene Ok Non togliamo più le torce Sembra una buona idea Vabbè i bat possono rimanere di qua Non ne frega niente No bat allowed Una torcina la devo mettere anche qua Portate qui una torretta Tra l'altro non so se è la torretta per i bat Perché i bat sono veloci Quella elettrica Cazzo se li fa tiro l'uno Visto che non mi sa mai Quella sì Ah questa le buttiamo fuori Tra l'altro non richiede proiettili Mi ricordo È vero Solo che mi sa che non ho plug Vabbè chi ce ne frega Lascialo così Abbiamo altri 103 cpu Mi sa che sono finiti Non sta più craftando No sta ancora craftando Sei inquietante con il ragno La macchina in uso Ok a posto Ormai il ragno l'abbiamo eliminato Il regime Che ragno era? Stai colpendo me però Eh io stavo tirando al volo E tu ti sei messo davanti Eh tu non tirare al volo Lasciali stare i poveri bat Che non ti hanno fatto niente No devono morì Allora partiamo da qua Facciamo così Il regime lo vuole E lo vuole morto Ma cazzo è finito Ma ecco Mamma mia prima di riuscire a finirlo Fatto È morto Non ce ne dovrebbe essere più Via Ce ne andiamo qua fuori Che ti guarda Dove fuori Ma guarda Eccolo Hop Fatto io Vabbè Probabilmente che sia stato fatto Allora Questi Li butto qua dentro Ok Bifrost block acquisito E adesso Vediamo di fare Questa cosa Adesso non so se Fare un altro drago Ah ovviamente Devo ancora Modificare questo Non lo so Pif Facciamo un altro drago? Eh Volendo si Dammi due secondi Che però Devo prendere Ecco qua Con 2, 3, 4, 5 Questa loot bag La butto di qua Eh Perfetto La butto di qua Voilà Mi svuoto all'exp Perfetto Un Fabulous Manapool fatto Vale Poi Eh Li puoi farmare Facendo una dimensione In effetti C'è un achievement Devo prendere Il DNA di un drago Con la siringa Allora Mettiamo la siringa Ehm Dunque Mettiamo la siringa Stavolta Stavolta Di fiatella del nether Non me ne serve Cioè di fiatella del drago Ma ne abbiamo Poi quando ci serve Lo rifacciamo Dove ho messo i cubi? Ecco i cubi C'è la rftools Sì sì E' proprio con quella La dimensione Della rftools Ehm Fatemi pensare Cos'altro mi serve Ma sai che Io avevo un ring Di qua Che era il ring Dell'estr E questo E questo Questo con l'ender star Mi serviva Oh Allora Facciamo un paio di queste Che mi sono già rotto il cacchio Allora Ehm R Di queste Ne facciamo Prima non ricordo chi è Ha detto che non c'era No no c'è per forza Guarda Rftools La siringa è dell'rftools Ma la decorati tu questa cosa Cosa? La decorata tu la pull Di spawn dei Dei squid Sì Un tempo era in cobblestone normale Lascia il cheese Aled No Boh Vabbè Mistero della fede Sono i fantasmi Boh Io non l'ho fatto Ma io nemmeno Allora In teoria possiamo fare Le wing of bat Allora Wing of the bat Ah no ci servono due Empowered Diamantine Ok poi le faccio Ehm Invece questo Può fare così Questo mi da Un effetto di Dovrebbe darmi Un effetto di STR continuo Di STR 2 Sempre Adesso faccio E' evitare che la roba Ci caschi di sotto Adesso faccio anche quello Della night vision Allora Della actually Poi dovrò fare anche tutto Per pif Mamma mia Però me li faccio off camera Perché Non è che si può Fare ogni cosa On camera Che altro che Sennò poi avevi Smandruppato L'adresse Sennò poi avevi smandruppato Abbastanza così Allora Ring of speed Ring of haste Perché poi In torrile potremmo fare tutti Per avere una striscia Di buff infinita Allora Jump boost Regeneration Resistance Fire resist Dove cazzo è finito Night vision Eccolo qua Forse non abbiamo Tutta questa roba Che ti serve Le carote dorate Non le abbiamo tutte Ne faccio un pa Non ci sono carote qua dentro Non nemmeno stacca Ne abbiamo fatto nel latte Sì sì No è solo che non erano dentro La refined Allora Plop Questo c'è Un po' di oro No Mi c'era un blocchetto di diamanti Trasformato Allora Trasformiamo il blocchetto di diamanti Ho tolto la Sì Non è che per caso È il magneto attivo Vero No Ok Perfetto Questo qui Sto facendo l'impianto Per creare risorse Nella progetto zone 2 Bravo bravo Ottimo Più risorse Più risorse Mi sa che i nostri video Della progetto zone 2 Sono stati cancellati Crassi Sennò potevi guardarti Qua hanno fatto il nostro Che era una figata Da mo che sono stati Che dove cazzo stanno A prendere l'acqua Adesso non lo chiamo Nella pool degli squild Stavo andando Ring of night vision Et voilà Bello come un quadro Adesso ho sempre night vision Te Oh vaffan cuffia E poi che nel tronello Possiamo farci Quello della speed Quello dell'invisibilità Così i mostri Non mi smandrupano i coglioni Fire resistance Un bellino il crystal bow Che non ha bisogno Delle frecce Le tira col mana Eh quello è buono Capito Ma anche l'armatura Della botagna Non è malaccio Eh Allora sai che forse Qualche Un altro po' di Fiatella del drago Me la prendo L'avevo fatto Nell'overworld Poi lag Ha mandato tutto a puttani Lo devo trasferire Nel last millennium Lo sto mettendo Allora Un altro po' di fiatella Di drago Piff Che ne dici Ok pronti Piff Ah se fai tutto Il set della natura Possono spawnarti Pixie Che vanno Contro chi ti picchia Quello di terra Stil No di elementium Ah Beh perché no Ok Io ci sono Piff Ok dove sei Sono qua Adesso andiamo dal drago Ah ok Questo qua Ho visto che si è bloccato Ho bloccato male Ok Quello dell'agricraft Quello della magical crops Eh no Quelle della magical crops Però ti devi fare Tutta quella dell'agricraft Per poterle poi Per poter passare poi Alla magical crops Quindi non è che hai Molta scelta Sì Allora questo Se non ricordo male Si usava così Sei pronto Piff Non li rompere questi Eh non li rompere E chi fa nulla Eccolo qua Pronti con la resurrezione E direi che non è neanche Pasqua Eccolo Due Adesso non ricordo se Bisogna aspettare Che faccia tutto Quindi Però vediamo se ha riparato Ma ha riparato La gabbia che avevo rotto Sì sì perché deve riparare tutto Ah wow Qua ci sono delle enderpearl volanti Dove? Per te che me le fuggi Ah sì perché no Ho già sentito Eccolo qua Eccolo E infatti si è chiusa la pozza Ma tanto noi abbiamo il comando Che ci frega Allora prima di tutto Facciamoci le torri Uno Oddio Enderpearl volanti anche qua Perché ammazza Gli enderman che sono in questa zona Sì Quando spawnavo la roba Cazzo devo per forza Spaccarlo questo Che Ok Ah mi devo attivare Io vado in questo senso Tu vai nell'altro Ci incontriamo a metà strada Sì Forse è meglio se attivo il magnete Perché ho visto che le enderpearl stanno Volando in terra Anziché volarmi in inventario Già fatti tutti? Eh sì Parrebbe di sì Ok aspettiamo Scendiamo giù E aspettiamo la soffianza Te serve Cazzo guarda quanti endermen che sono puppati Oddio Buongiorno signori Fate una festa Ecco la fiatella Oddio Gli aspetti in colonia Esatto Eccola qua Allora A me Questo A me Anche questo No questo no Questo levati Gli blocchetti Allora No ho preso solo l'aria del land Fuck Vabbè ora ti deve sparare l'altra Stai qua Ci vorrebbe un sistema migliore per Per aspirare la fiatella Il sistema è stai fermo e prima o poi te la tirai addosso Cazzo tu te mi ha fatto un culo al tana di grillo Ho l'end al 20% Il tuo com'è? 7% Io pregio più schiaffi Allora scendi Oh eccola qua Eccola Pronti Catturare Catturare La spirola tutta Fatta Sei boccette Eccone ancora Eccola Vai Ok sono sei boccette ogni volta Perfetto Vai bro Sono qua colpisci Pochi endermen Eh già pochi endermen Si Po si incastra Vai Dai Ok dai To Come ne farlo da sopra Così rimbalza sul pilone Ti torna subito Si perché questa cosa non ce l'ho più Ha ribaltato in terra Questa non è fiatella Aspettiamo Eccolo che arriva Oh sei cazzato dai Tonk 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 Ok Quasi morto Se mi sputasse un altro po' di fiatella Gli direi grazie Fiatella Eccola La vedo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Vai Fiatella depurata Ecco che poi arriva Eh Cucu No Ha detto di no Mi nomi mi nomi No Ha detto manco a balla Però l'ho colpito Intanto ha buttato gli endermen A punta di casino Hai visto Ha detto Fuck you enderman in particolare Ma ecco un altro Perché sta arrivando To L'ho preso in faccia a pieno Cazzo Adesso scoppia Si è scoppiato con il mio boomerang di ritorno Allora aspetta che mi prendo il cuore E non devo aspettare che sdroppi No 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 Non devo toccare No Porco Cosa Aspetta eh Sono caduto nella fontana Io sono ancora qua Arrivo Lo prendo il cuore Adesso arrivo Eh si va bene raccogli Ma tanto sto tornando Perché devo Spostare il Il pistone Ok ho il dragon earth Ok Il pistone Ah il pistone ce l'ha magnato Si Brutta roba Aspetta che E dovevi Toglierlo Eh vabbè Vado a fare un altro pistone Buttami il Il cuore Ok So Ciappa Tra l'altro devi avere anche Eh no Stacca il magnete E devi avere anche la L'essenza Vale No non mi ha droppato niente stavolta Solo il cuore Ma cazzo c'era andata l'essenza La sua premium essence No io Il magnete è attivo Ma non mi è arrivata C'era andata il ramengo Che vuoi che ti dica Controlla dentro il tuo inventario Magari No non c'è Ho già controllato Per quello chiesa a te Ninzo Allora Mi serve un altro pistone E un'altra leva Mi sa che come raccogliamo questo Cosa Se io vado a portare le bestie Che non ci si trovi Allora una leva Il fatto che si è spawnato di lì È molto meglio Perché è più semplice Da raccogliere Allora il cuore Magari non lo mettiamo in mano Può essere che sia caduto Nella fontana portale Ecco E poi mi ci tuffo No perché avevamo Io avevo il dislocator attivo Avevo il magnete anche io attivo Quindi Allora Allora La fontana L'ha mandato al ramengo E abbiamo un altro vetto di drago E quindi Cos'è che ci faceva con questa cazzata Adesso che ne abbiamo due No ne abbiamo solo uno Potrei fare il celestial manipulator Ender dragon death muffler No E cioè quando c'è nella fontana Si perdono Sì ma avendo il Il magnete è strano In termini dislocator Te lo dovrebbe chiamare Direttamente da un inventario No non ho usato la siringa Porca puttana Che sei un culo Eh vabbè Questi me li tengo sempre qua dentro Vabbò Ci ho detto Niente Vi lascio una sapienti male Del signor I Se vuole continuare No intanto stacco anche io E faccio un po' di off camera Facendo gli anelli Gli anelli dei buff Ok Fagli anelli dei buff E niente signori Grazie per essere stati con noi Ci vediamo come sempre Fagli anelli per una volta Come? Fagli anelli per una volta e salutiva Ci vediamo come sempre Qua domani Alle 16.30 Sperando che ci sia anche pif Cosa di cui non sono mai sicuro Ma dovrei esserci domani Ok Allora domani qua alle 16.30 Non sappiamo se con questa O con un'altra cosa Con un altro gioco State sintonizzati Alle 4.30 C'è comunque qualcosa E niente signori Ci si vede Bye bye Sempre qui Su Keghiu Channel Con Pishmage E I27 Ciao belli Ma io la volevo fare diversa Vabbè Ma ci sono anch'io Haha Cos'è un'altra cosa